Iniziamo pure, buonasera a tutti, siamo al venerdì pomeriggio della settimana anticontraffazione che si conclude quindi con questo evento. Oggi parliamo sempre di proprietà industriali, ovviamente che è il nostro life motive, ma collegata alla tecnologia e la digitalizzazione a supporto proprio della nostra materia. L'anno prossimo sarà 140 anni dell'ufficio brevetti e marchi e 550 anni dal primo brevetto, quindi siamo in una fase quasi di apertura per un grande festeggiamento che faremo l'anno prossimo. Ma invece di guardare al passato, oggi guardiamo invece al futuro, a quello che queste materie molto avveniristiche si collegano, vedremo come si collegano con la nostra materia. Abbiamo oggi un parterre di grandissima importanza, in particolare saluto la nostra capomissione, posso dire, a cui daremo l'apertura dei lavori, che è la dottoressa Eva Spina, collega del Ministero, credo uno dei massimi esperti italiani di sicurezza informatica, di tecnologia dell'informazione, di cyber security. Grazie a Eva di essere con noi. Poi abbiamo il professore Sbordone dell'Università degli Studi della Campania, il direttore della fondazione Ogo Bordoni, il dottor Beltrame, il responsabile delle soluzioni anticontraffazione e tracciabilità dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, il dottor Sciascia. E per concludere, ma ovviamente per noi è di grandissima importanza avere qui anche la voce delle imprese, la voce delle grandi social imprese, direi, il dottor Claudio Bergonzi, director global IP enforcement di Alibaba. Io vorrei dare subito la parola ad Eva, che un po' diciamo ci traghetterà dalla proprietà intellettuale alla digitalizzazione. A te la parola Eva, prego. Grazie Amedeo e buon pomeriggio a tutti e benvenuti a questa sessione del pomeriggio. È davvero con vero piacere oggi che do inizio ai lavori di questa giornata dedicata alle tecnologie e anticontraffazione, l'ultimo panel all'interno dell'ottava edizione della settimana anticontraffazione del 2023. Il punto da cui partire è sicuramente la centralità delle tecnologie al giorno d'oggi, di come questa centralità investe le nostre vite, il nostro lavoro, la nostra salute, il nostro apprendimento, innescando un processo di trasformazione continuo, veloce e proiettato verso il futuro, modificando e rivoluzionando interi settori e interi modelli di business. Molti esperti affermano che la vera sfida che le aziende devono affrontare oggi è capire come le nuove tecnologie possono essere utilizzate per creare valore per i propri clienti e come queste tecnologie modificeranno il loro modello di business attuale e i loro processi interni. Blockchain, intelligenza artificiale, robotica, nanotecnologie, stampa 3D, digitalizzazione dell'attività, quantum computing, 5G, 6G e IoT sono solo alcuni esempi di come il mondo della tecnologia in diversa misura e in diversa forma ha un impatto significativo sul lavoro, sull'economia, sul commercio mondiale, sull'ambiente e sullo sviluppo sostenibile. L'attuale rapido scambio di contesto che è imposto dalla rivoluzione tecnologica ha investito senza dubbio anche il mondo della proprietà industriale. Nel corso degli ultimi anni abbiamo vissuto una fortissima accelerazione con la produzione e la diffusione di numerose tecnologie che impattano sulla protezione, violazione e applicazione della proprietà industriale. L'esigenza di nuove soluzioni tecnologiche per proteggere i diritti di proprietà industriale è correlata fortemente al fenomeno contraffattivo, dal momento che le dinamiche e le evoluzioni della contraffazione a livello globale richiedono strumenti e soluzioni tecnologiche innovative all'avanguardia per prevenire e contrastare la diffusione di un fenomeno sempre più performante sotto il profilo tecnologico e che espone il consumatore a insidie di acquisti contraffatti e le imprese alle minacce di concorrenza generale. Tutte le tecnologie, spesso in combinazione tra loro, possono essere applicate da chi viola la proprietà intellettuale per rendere più efficace la futura produzione, commercializzazione e distribuzione di prodotti falsi. Per esempio la produzione più economica con l'uso di robot, l'uso di impianti di stampa 3D locali in opifici clandestini per la produzione di articoli non originali, evitando i controlli doganali. La presentazione più accattivante dei prodotti contraffatti grazie alla realtà aumentata, come esempio. Tuttavia le tecnologie possono anche essere utilizzate in modi nuovi, che violano la proprietà intellettuale, ad esempio il cyber-squatting dei sistemi decentralizzati di nomi di nominio falso, violazione del diritto d'autore nelle applicazioni virtuali, in frode informatiche o attacchi informatici legati alla proprietà intellettuale, per esempio la frode della fattura di registrazione del marchio o attacchi di phishing supportati da deepfakes, furto di segreti commerciali, come esempio. Non importa in quale settore si opera, da quanto tempo si opera o se non si è mai sentito parlare di tecnologie anti-contraffazione. Qualunque sia la situazione, è sempre più crescente la diversità da parte dei consumatori, di tutti gli intermediari offline e online e delle aziende, comprese le piccole e medie imprese, di saperne dicare di più sulle soluzioni anti-contraffazione, per poter riuscire a decidere quali tecnologie sono più adatte al proprio business e a porre le basi per la costruzione di una propria e vincente strategia anti-contraffazione. E partendo da questa considerazione principale dell'evento di oggi, sarà quello di approfondire il ruolo che le tecnologie ricoprono nel campo della proprietà industriale e rischi, insiti in particolar modo, nel mondo virtuale, in cui il mercato della contraffazione sembra trovare terreno sempre più fertile. Ringrazio dunque la Direzione Generale Tutela della Proprietà Industriale, Ufficio Italiano Progetti in Marchi e Amedeo Teti in particolare, per la dimostrata sensibilità dedicata al mondo delle tecnologie. Ringrazio tutti i relatori conduruti, esperti del sistema accademico e rappresentanti di istituzioni, imprese e piattaforme e-commerce, che condivideranno oggi le loro idee e si confronteranno sul valore e sull'efficacia delle tecnologie per la tutela del mercato della contraffazione, presentando progetti, esperienze, iniziative sperimentali o già messe in campo. È fondamentale fissare la rotta verso un punto importante. Una delle chiavi per il futuro del nostro Paese sarà la capacità di favorire la crescita dei settori tecnologici e la diffusione di nuove tecnologie. Non può esistere crescita per il futuro senza avere la capacità di saper rinnovare il nostro presente. Grazie ancora per l'invito e buon lavoro a tutti. Grazie mille Eva. Adesso ascoltiamo il professor Francesco Sbordone, ordinario di diritto civile dell'Università degli studi della Campania Luigi Vambitelli. Lui tratterà delle modalità e delle tecniche di controllo interne all'impresa volte ad escludere l'approvvigionamento di prodotti contraffatti inseriti nella catena produttiva. Professore, a te la parola. Grazie, grazie mille. Io ringrazio tutti per questo invito in questo contesto prestigioso e ovviamente per me è anche un segno di quantificata perché abbiamo già in passato collaborato università e ministero per alcune iniziative formative dirette soprattutto ai giovani per dare appunto elementi utili in qualche modo a contrastare l'uso e il consumo di prodotti che si contraffa. La mia relazione sarà in parte tecnica, pur non essendo io un esperto di tecnologie, però qualcosa ne capisco, ma soprattutto mettere anche in evidenza rispetto all'uso delle tecnologie alcune difficoltà legate proprio all'impianto normativo delle tutele che chiaramente diventa la chiave di volta per far sì che in alcuni settori e in alcuni modelli di distribuzione si possono arrivare a uniformità. Allora, partendo da questa considerazione, è chiaro che io parlerò prevalentemente di piattaforme digitali, partendo in realtà da questa regolamentazione dell'Unione che è il Digital Service Act, in vigore dal 2023, che crea ovviamente un sistema di responsabilizzazione delle piattaforme digitali in cui avvengono gran parte degli scambi in cui spesso si assiste alla vendita di prodotti contraffatti, che impone alla piattaforma appunto un comportamento, si dice, di sorveglianza attiva. Poi abbiamo ovviamente alcuni rappresentanti delle piattaforme più importanti che meglio di me sapranno illustrare le tecniche. Questo Digital Service Act ha ovviamente una portata sostanzialmente interna al territorio dell'Unione, quindi come devo dire sarebbe aspicabile avere in qualche modo anche una uniformità di disciplina a livello più ampio di quello della mera Unione. È vero che anche qui si prendono soluzioni per piattaforme che operano nel mercato europeo, però sappiamo che la contraffazione si giova molto della globalizzazione dei mercati e anche della, possiamo dire, presenza in alcuni paesi di forti lacune normative su queste forme di tutela. Sotto questo punto di vista, partendo appunto dal titolo della relazione o comunque dalla mia esperienza, diciamo non questa come professore ma come avvocato, consulente d'impresa, abbiamo tutta una serie di, diciamo, di tecniche, di possibilità per evitare, diciamo, la vendita di prodotti contraffatti e quindi tutele che sono dirette soprattutto alle piccole e medie imprese, perché le grandi imprese, soprattutto nel settore del lusso, hanno, diciamo, stabilmente un'attività di controllo sul prodotto e di intercettazione della contraffazione che però ha dei costi particolarmente elevati. Quindi le piccole medie imprese spesso invece si rivolgono a studi legali per iniziare a proteggere la proprietà industriale e poi in qualche modo devono essere guidate per evitare che appunto il mercato della contraffazione fa coci il loro ingresso nel mercato. Dal punto di vista dell'esperienza, diciamo, abbiamo spesso stipulato degli accordi, memorandum understanding, dove in qualche modo affidandosi anche a società specializzate si procede a un servizio di monitoraggio del web online per l'intercettazione appunto di prodotti contraffatti. In realtà si cerca di introdurre per la piccola e media impresa un sistema, si dice, di automatic brand protection, cioè trovare il sistema di consulenza, un software di cui parlerò tra poco, di software che possano consentire di intercettare il prodotto contraffatto nelle loro vendite online. Ovviamente la grande piattaforma lo fa, io ne darò qualche esempio, ma il problema sono anche tutti i prodotti contraffatti che vengono venduti sui social network, quindi già volendo fare un confronto, certamente il sistema di tutela di Amazon in qualche modo, per citarle il famoso, predispone non è equivalente agli strumenti di tutela predisposti da altri social network, quindi mi riferisco al gruppo Meta, quindi abbiamo in qualche modo anche un divario sull'adeguamento a quelle che sono le best practice di settore. È chiaro che questo significa sconfiggere il fenomeno della contraffazione, perché noi oggi ragioniamo su un sistema per cui le vendite stesse sono online, c'è una proliferazione del mercato digitale, ma nulla impedisce poi al piccolo contraffattore di vendere non online, direttamente, diciamo in loco, merci contraffatte. Però è chiaro che la rilevanza delle piattaforme in qualche modo giustifica e favorisce questo tipo di tecnologie. Diciamo che volendo osservare queste modalità di intercettazione del prodotto contrapunto contraffatto, partendo da un'ipotesi di tracciabilità del prodotto, come è stato detto autorevolmente prima dalla dottoressa Spina, rilevano due diciamo tecnologie. La prima è quella della blockchain, in qualche modo che conosciamo, cioè l'idea che poi in qualche modo ha prodotto anche la costituzione dell'aura blockchain consortium da parte di molti marchi, sono mi riferisco a Givenchy, l'Europeana, Witton, che hanno ovviamente fatto sì che attraverso la blockchain, che sappiamo genera un costo in un tab del prodotto e garantisce la tracciabilità dello stesso dalla sua origine al suo arrivo al consumatore finale, permette di evitare e di fondersi di prodotti contraffatti, ma chiaramente questo implica che il compratore del prodotto contraffatto, il compratore che vuole comprare l'originale ma si trova di fronte al prodotto contraffatto, ma non esclude poi che ci sia chi volutamente, soprattutto in riferimento ai marchi di lusso, voglia acquistare comunque un prodotto contraffatto perché lo paga di meno avendo diciamo l'apparenza del marchio di lusso. Questa esperienza di Aura a blockchain mi sembra un'esperienza particolarmente significativa, però sappiamo che è diretta a marchi del lusso, soprattutto nel settore della moda, ed è un sistema che ha dei costi di gestione particolarmente elevati e quindi si potrebbe prestare ad alcune filiere produttive, alcuni settori per le piccole e medie imprese solo appunto attraverso degli accordi che consentano di gestire il costo elevato di questo monitoraggio, però è certamente un tipo di monitoraggio che appunto consente la trattabilità, poi sul piano tecnico la blockchain genera questo codice che si abbina a un QR code che sappiamo in qualche modo dà la possibilità di verificare l'originalità del prodotto e quindi la rispondere al prodotto all'originale. Questo tipo di tecnologia ovviamente è una tecnologia che si può applicare sia nella vendita dei prodotti su piattaforma sia nella vendita dei prodotti diciamo fisica, in negozio fisico. Quella che invece mi sembra di particolare interesse è tutta da sviluppare che però opera prevalentemente per l'evento online su piattaforme è appunto l'intelligenza artificiale. Effettivamente già credo Amazon, da quello che ho potuto rilevare, utilizzi delle forme di intelligenza artificiale, vedremo con quali sistemi, che in qualche modo scandaliano costantemente l'offerta che viene realizzata su quella piattaforma, scandaliano le immagini, scandaliano diciamo tutto quello che appunto il machine learning consente a questo software di imparare per distinguere i prodotti contraffatti da quelli originali. Quindi come vedremo si interviene poi in quel senso nel bloccare la vendita del prodotto e addirittura, questo lo fa Amazon in particolare, segnalare alle autorità la denuncia dei contraffattori. Quindi è un sistema che mi sembra particolarmente chiuso e devo dire dal punto di vista delle analisi che abbiamo fatto anche con il mio gruppo di ricerca all'università è stato particolarmente efficace. E quindi l'intelligenza artificiale diventa uno strumento fondamentale per escludere la contraffazione diciamo online e chiaramente implica una formazione e un apprendimento di questo software. Questo punto è molto delicato però, perché? Perché il livello l'utilità del contraffattore, anche questo è stato rilevato, è talmente elevato oggi che per poter istruire l'intelligenza artificiale in maniera propriata e realmente efficace bisogna servire i residui tecnici che in qualche modo abbiano effettivamente la capacità di distinguere il falso dall'originale. E questo impie un studio, un approfondimento che richiede anche delle investigazioni non solo online, ma in qualche modo anche fisiche. Mi riferisco ad esempio al settore dell'orologeria, dove oggi è effettivamente molto complesso riuscire a distinguere un contraffatto, diciamo fatto molto bene, da un originale. Quindi è chiaro che con tutto si riesce a intercettare con l'intelligenza artificiale, salvo che non vi sia un'attività di tecnici esperti, che possa effettivamente individuare i criteri discretivi ed è un lavoro che è sempre, diciamo, è una sorta di rincorsa, non è un lavoro che si ferma, è un lavoro continuo, perché chiaramente sappiamo che il mercato della contraffazione alza sempre il diritto della qualità della contraffazione e della indistinguibilità dal prodotto originale. Rispetto a queste due tecnologie, quindi blocco cemina e intelligenza artificiale, volevo poi concentrarmi anche sul, poi rispetto al tipo di intervento, su quello che fa la piattaforma Amazon, quella che sarà noi, diciamo, ampiamente studiata. In realtà il primo aspetto è quello che per, diciamo, la piccola e media inglese mi è sembrato di migliorare importanza, che allo Stato mi sembra funzionare solo per il mercato degli Stati Uniti e qualche altro mercato, ma non per quelli che hanno però, probabilmente qualcuno dopo di me mi darà conferma, è il sistema di IP Accelerator. Che cos'è questo sistema? In realtà è un sistema attraverso il quadro che la piattaforma mette in contatto piccole e medie imprese al fine di trovare, diciamo, costo concordato per quello che serve alla piccola e media impresa, studi specializzati in proprietà industriale, a cui affidare in qualche modo l'attività iniziale di protezione della proprietà industriale, perché molti piccoli produttori o medie produttori a volte sono disattenti a questo punto, invece a questo profilo, pensando poi di intervenire, proteggendosi soltanto quando eventualmente quel marchio o quella proprietà venga di fondo dovessero essere più famose. Quindi questo certamente è un sistema che in qualche modo anche, diciamo, fosse lo Stato attraverso delle forme di finanziamento, comunque enti riferibili al Ministero potrebbero garantire, diciamo, alle piccole e medie imprese, ci sono finanziamenti nel senso, questo è sicuro. Però mettere in contatto professionalità specializzate in questo con le piccole e medie imprese, tutte le piccole imprese che costituiscono da noi, per esempio, il tessuto principale, è un fattore molto importante. Quindi questa esperienza di Amazon sarebbe da segnalare come una pratica ottima per favorire in qualche modo la tutela della proprietà industriale. Poi, osservando il modo in cui Amazon, diciamo, agisce per questa lotta alla contraffazione, segnalo anche due tipi di, diciamo, di interventi. Il primo e più importante si chiama Brand Registri, cioè un registro sostanzialmente dei marchi che poi si accompagna anche a Project Zero con un altro servizio che fornisce la piattaforma dove si postano a caricare immagini specifiche e dettagliate dei prodotti, che la combinazione tra e due porta o può portare come tipo di, diciamo, sanzione o comunque come tipo di conseguenza l'espulsione da quella piattaforma di chi appunto non utilizza prodotti o vende prodotti contraffatti. Questo Brand Registri in realtà implica innanzitutto una possibilità di accettazione del marchio. Già questo è un punto che poi è normativo ed è un punto delicato, cioè si limita l'accettazione dei marchi registrati soltanto in alcuni Stati, Stati Uniti, Brasile, Canada, Messico, Italia, Spagna, ma non l'Unione Europea nel suo intero e Emirati Arabi. Però per il funzionamento, per esempio, implica l'utilizzazione del numero di registrazione del marchio rilasciatolo al singolo paese, non accettando i numeri di registrazione della registrazione fatta al resto della WIPO, per esempio. Già questo è un sistema che segnala una difformità di funzionamento, non stenderebbe la pena, ma questo è un fatto normativo importante e complesso di integrare perfettamente i sistemi di tutela, diciamo, con la WIPO, che in qualche modo potrebbero essere integrati. Quindi è avvenuta la registrazione e poi si passa a questo monitoraggio e a questa, diciamo, attività, l'impresa che ne ha interesse di segnalare testi, immagini e contenuti del proprio brand, del proprio marchio, per far sì che poi l'intelligenza artificiale lavori nell'identificazione dei venditori online che vendono prodotti contraffatti. Dicevo che attanto a questo brand registry poi c'è questo che è un altro appunto sistema dove effettivamente lì c'è l'intervento ancora più diretto dell'intelligenza di un sistema di intelligenza artificiale che consente di attivare delle forme di protezione automatica, cioè bloccare le offerte sospette sul sito di prodotti contraffatti prima addirittura che vengano pubblicati, consente in automatico la rimozione diretta delle offerte, diciamo, dal negozio, quindi sulla dalla piattaforma e quindi c'è una formalizzazione particolarmente rilevata e poi, diciamo, prevede una serializzazione dei prodotti. Cioè l'idea che appunto i prodotti di un certo brand e un certo marchio sono identificati in maniera univoca oltre che controllando test e immagini attraverso un'emissione di codice univoco sia sul prodotto che sul packaging. Quindi, diciamo, con questi strumenti si cerca di evitare che entrino nel sistema della piattaforma appunto venditori di prodotti contraffatti. Questa è una persona che adesso vengo alla parte e chiudo perché credo di aver parlato già abbastanza, vengo alla parte che più interessa poi il profilo normativo. Allora, il punto è questo. Noi abbiamo un sistema di vendite globali, abbiamo tante piattaforme che sono situate in paesi dove il prodotto contraffatto è spesso realizzato e in qualche modo si avverte una lacuna normativa. Quindi probabilmente, ma questa è una prospettiva futura, l'idea di arrivare a delle forme di convenzione in qualche modo si inquadrino anche nei trattati da WTO, perché quelli spesso poi incidono sull'attività di queste grandi piattaforme, arrivare a delle convenzioni che possano garantire una maggior tutela è importante. Questo per segnalare anche quale aspetto, che dal punto di vista delle tutele normative ci siamo, o almeno dal punto di vista normativo, salvo questi accorgimenti che avvengono a lacune che possono essere colmate con norme di conflitto, con convenzioni internazionali. Ci siamo anche a tutti i controlli di pulizia, di cui qualcuno parlerà dopo di me, che sono diventati più intensi, anche tecnologicamente più avanzati, salvo per considerare che poi in Dogana in particolare poi molti controlli sono fatti a campione, quindi questo anche consente a prodotti contraffatti di essere immessi in un mercato di vendita diretta diverso da quello digitale e quindi gli strumenti di tutela si sono fatti realmente più efficaci, però si nota proprio attraverso, diciamo, la semplificazione che ho fatto, il funzionamento di Amazon, che sostanzialmente tutte le forme di tutela sono sempre legate ad accordi, quindi tra il venditore sulla piattaforma e il gestore della piattaforma. Quindi c'è uno spazio di autonomia negoziale, contattuale, che consente di rivelarsi, ma in assenza molte volte di un'effettiva capacità di poter agire poi in via giudiziale per queste tutele. Sono tutele, diciamo, legate a una forma di privatizzazione della tutela stessa, quindi il blocco automatico del sito del venditore, l'espulsione da quella piattaforma e le cose che ho rappresentato prima sono sempre affidate poi a un gestore e il problema diventa per, a volte in uno studioso diritto civile quale sono, che sono un tradizionalista, capire in che modo poi questa tutele possa trovare efficacia, dinamica, dinamica, quindi una forza coattiva diversa da questi meccanismi di, diciamo, penalizzazione privata, ecco, del venditore, del produttore di prodotti contraffatti e su questo forse bisognerebbe guadagnare terreno proprio colmando certe lacune normative e questo lo si può fare facilmente in presenza di uno Stato federale, come negli Stati Uniti, o in presenza di un'Unione Europea che il Stato federale non è, che però ha una regolamentazione unitaria che, diciamo, tende all'unificazione delle giurisdizioni. Quando si è accettato con paesi altri diventa molto più complesso, quindi probabilmente o sono richieste convenzioni bilaterali oppure bisogna agire come si sta facendo attraverso sistemi di tutela che sono in realtà solidarizzati, sono gestiti direttamente dalla piattaforma dove si vendono i prodotti e regolamentati per una disciplina, in questo caso Digital Service Act, che ha una valenza però legata al territorio dell'Unione. Vi ringrazio, vi scuso, ho detto cose che altri sapranno rappresentare meglio, ma in realtà nasce questa mia relazione dall'esperienza che abbiamo avuto con alcune piccole imprese che in qualche modo si sono avviate verso questa attività di utilizzo delle piattaforme e sono avviate nella decisione di proteggere effettivamente i loro marchi, la loro proprietà industriale. Grazie mille. Grazie davvero, professore. Ci ha dato tantissimi spunti di discussione sulle potenzialità tecnologiche che esistono per la lotta alla contraffazione e in particolare ci ha anche aperto l'orizzonte al di fuori del confine italiano, ma ha parlato di Unione Europea, ha parlato di convenzioni internazionali, ha parlato di convenzioni con le piattaforme, quindi tantissime cose da discutere. Io nel gioco di parole tra il professor Sbordoni e la fondazione Ugo Bordoni do la parola al suo direttore, ad Alessio Beltrami, che ci parlerà anche lui un po' di questo salto tecnologico in cui stiamo vivendo. Prego. Se c'è io una presentazione... La vedi lì qua? Sì, sì. Per azionarla? C'è un... Eccoci qua. Allora, buongiorno a tutti, tanto grazie prima di tutto per essere stato invitato a questa... alla chiusura, al convegno di chiusura della settimana anticontraffazione. Grazie al direttore Teti, la dottoressa D'Alessandro e tutti gli altri colleghi con cui in questi anni insomma ci siamo confrontati sulle tematiche dell'anticontraffazione. Due parole velocissime sulla fondazione Bordoni, ma semplicemente per inquadrare per quale motivo noi stiamo collaborando in questi anni con l'IBM. In particolare voglio far vedere insomma quella che è stata l'ultima modifica normativa che è stato l'articolo 27 del decreto proprio del 2023 che ha in qualche modo rivisto, esteso le competenze della fondazione Bordoni ricavandogli un ruolo proprio anche sulla favorire lo sviluppo tecnologico e sulla protezione anche di quelle che sono le proprietà industriali, insomma, quindi sostegno in qualche modo al Made in Italy. Le nostre competenze sono quelle che sono rappresentate dai 140 dipendenti, buona parte di queste sono dei ricercatori distribuite su quattro aree progettuali, analisi dati, la sabbia e sicurezza, le telecomunicazioni e i servizi digitali. E oggi le sfide sono rappresentate un po' da quelle tecnologie che vedete sulla sinistra. La forza di queste tecnologie è la loro combinazione che sta permettendo un salto tecnologico importante che va a impattare fortemente anche sul tema che andiamo a trattare, che trattiamo oggi. Quali sono le cose che noi facciamo per, sulle quali supportiamo la direzione? Sono appunto lo studio sulle tecnologie dell'intelligenza artificiale per il monitoraggio della contraffazione online, ne parlava prima il professor Sbordone. Un studio su quelle sono le nuove tecnologie, perché l'avanzamento della tecnologia chiaramente ci porta, diciamo, ad avvenne sempre di nuove. Studiare nuove forme anche di illecito, che in realtà si vanno, diciamo, a determinare anche sui nuovi processi, nuovi modelli di business, ad esempio, sviluppati e permessi dal metaverso. E le politiche di sostegno allo sviluppo e alla diffusione di strumenti e processi innovativi, perché chiaramente avere a disposizione le tecnologie non è la stessa cosa che essere poi capaci anche, fa sì che le nostre tecnologie, che le tecnologie poi siano diffuse sul sistema delle piccole e medie imprese. Quindi anche quello è un aspetto molto importante, quello del trasferimento tecnologico, lo vedremo anche in un paese come il nostro. E poi abbiamo altre attività di supporto diretto con la direzione, con gli specialisti che lavorano sui brevetti e marchi, e anche sulla parte della gestione del sistema informativo della direzione. Velocemente su quelli che sono, diciamo, alcuni dei progetti che seguiamo, che abbiamo seguito in questi anni, e quelli che sono un pochino anche dei risultati. Allora, prima appunto, il professor Sbordone ha introdotto esattamente il tema della contraffazione online. Noi in questi anni abbiamo sviluppato dei sistemi che avevano l'obiettivo di andare a individuare quelle che erano i siti e contraffatti, cioè utilizzare delle tecniche di machine learning per andare ad individuare, a caratterizzare quelli che erano i siti che vendono prodotti contraffatti. E quindi abbiamo sviluppato questo sistema, e questo sistema poi è stato sviluppato ed utilizzato in collaborazione con associazioni di categorie, per andare quindi proprio a testare, a toccare con mano quelli che erano, qual era la situazione. E dal 2018, appunto, abbiamo analizzato quasi un milione di risultati dei motori di ricerca, cercando appunto di, facendo delle analisi dettagliate, specifiche, poi su settori merceologici, perché le tecniche, diciamo, di contraffazione sono sempre più raffinate e variano sulla base dei prodotti che vogliono essere venduti. Ed è, e l'abbiamo applicato sia al settore del B2C che al settore del B2B, con risultati diversi tra loro, ma insomma che hanno evidenziato come c'è questo fenomeno, sia un fenomeno che continua ad essere presente, anche se non ha delle percentuali rispetto a, ovviamente, ai settori e alle situazioni, alle aziende che abbiamo in individuo a noi altissimi. Altro tema importante, molto centrale nella discussione di oggi, è appunto quello della guida alla contraffazione. Come dicevo prima, l'importante non è solamente avere a disposizione le tecnologie, ma far sì che queste tecnologie arrivino poi alle aziende, siano ben presenti. Ecco perché questo lavoro fatto sulla guida è un lavoro che ha l'ambizione di creare una guida messa a disposizione poi del sistema delle imprese e quindi andando a classificare quelle che sono le metodologie e le strategie per la protezione dei prodotti fisici e una descrizione di quelle che sono le tecnologie ormai stabili, diciamo, e consolidate. Queste tecnologie, alla fine, due parole, sono tecnologie che si possono classificare tra tecnologie elementari, che sono quelle sostanzialmente di marchiatura dei vari prodotti fisici e poi ci sono quelle trasversali, che invece sono quelle che vengono poi utilizzate per archiviare, per validare. Tipicamente sono sistemi informativi tradizionali, ma sempre più la blockchain è una tecnologia che si sta facendo e che può, diciamo, utilizzata per andare, diciamo, a proteggere, a proteggere appunto dei prodotti fisici che sono stati, che sono stati marcati. La tecnologia blockchain è stata già menzionata più volte e ci ritorneremo. Sempre la classificazione, se poi andate a vedere la vita, ovviamente ha, diciamo, rispetto, diciamo, ai marcatori, anche qui ci sono tanti tipi di marcatori, quindi poi qui la guida va a descrivere esattamente quelli che sono tutti, diciamo, i possibili marcatori che possono essere utilizzati e anche altre caratteristiche dei metodi di marcatura, che sono appunto quelli che hanno la visibilità o l'invisibilità dei marcatori, la possibilità di fare delle verifiche online, offline, oppure piuttosto di avere delle strumentazioni ad hoc per andare a verificarli. Questa, solamente una slide per farvi vedere, è un pochino un albero, in qualche modo, che cerca di andare a inquadrare tutte le possibili, le possibili tecnologie, quelle più, quelle principali, che riguardano appunto i prodotti fisici, lo ripeto. Allora, in realtà, ecco, volevo arrivare a questo punto, a capire e indicare quelle che sono, insomma, le, quelle che vediamo, insomma, gli sviluppi necessari su questo fronte, sul fronte, diciamo, dell'osservazione delle tecnologie disponibili, che sono appunto quelle di continuare a cercare le tecnologie emergenti per i sistemi di anticontraffazione fisici, una revisione di quelle già classificate, ma andare anche a individuare poi i nuovi sistemi di tracciamento della supply chain, con parte di evidenza ai sistemi basati sulla blockchain, che appunto sono sistemi che promettenti per quanto riguarda appunto la protezione e la tracciabilità dei prodotti. E ovviamente una cosa, diciamo, che parte adesso, ma non mi ci soffermo, perché poi è stato oggetto anche di un approfondimento specifico dell'ingegnere Bernardini proprio in questi giorni, in questa settimana, il tema del metaverso, dove ovviamente non si parla più di prodotti fisici, ma iniziamo a parlare anche di prodotti che sono nativamente digitali. E quindi cambia tutto l'approccio. Tracciabilità della filiera. Diciamo che questo è un tema che è centrale, ed è centrale anche nel Ministero, che appunto nel DDL Made in Italy, l'articolo 37, va appunto ad individuare la blockchain come una tecnologia innovativa, diciamo, che può essere utilizzata per la tracciabilità e per la valorizzazione. Questo è un elemento importante del Made in Italy, e c'è anche un'attività di istituzione presso il Ministero di un censimento delle soluzioni tecnologiche, quindi andando un po', diciamo, verso, diciamo, quell'idea di avere una guida che orienta tutti su quelle che sono le possibilità tecnologici. Un altro aspetto, dal punto di vista normativo, secondo noi, che è importante ed è un'opportunità, è il tema del passaporto digitale per lo sviluppo dell'economia circolare e sostenibile. Io penso che il tema del Made in Italy sia legato, per un paese appunto come il nostro, non solamente alla tracciabilità, non solamente alla capacità di proteggere i prodotti in tutta la sua filiera, ma poi anche di evidenziarne le caratteristiche rispetto al tema della sostenibilità e la tracciabilità delle materie prime e dei processi. Noi l'abbiamo testato, tra l'altro, anche con mano, noi stiamo facendo uno studio particolare per la regione toscana, proprio sul sistema industriale in particolare del tessile, dove quello che sta avvenendo fuori, in una filiera, tra l'altro, molto complicata, in cui ci sono molti soggetti dentro, diciamo, nella catena per arrivare dalla materia prima al prodotto finale e sta avvenendo fuori che i committenti sempre più chiedono una garanzia sulla modalità di lavorazione di quel prodotto, ovviamente le materie prime, la CO2 consumata per produrlo, eccetera. Quindi in qualche modo questo elemento vi diventa un elemento di valorizzazione del prodotto e la blockchain, appunto, può essere uno strumento che ci aiuta anche su questa strada. Beh, questa era proprio esattamente l'idea, insomma, della tracciabilità della filiera nella quale, appunto, viene in qualche modo tracciato ogni singolo passaggio, non mi soffermo. Il tema del metaverso, ve l'ho detto, è un tema che apre, ovviamente, degli scenari completamente diversi, perché qui, appunto, ci sono prodotti fisici acquistati in ambienti virtuali, ma ci sono prodotti nativi e originali digitali, ci sono prodotti digitali che aspirano a diventare dei prodotti fisici e allora è chiaro che su questo campo è un campo in quale dobbiamo fare ricerca e approfondimento per avere poi poterlo, diciamo, come dire, governare. I numeri sono numeri di previsione importanti di crescita, quindi non possiamo, diciamo, non tenerne conto. Allora, cosa possiamo dire, diciamo, da questa prima parte? Il salto tecnologico è nato, è evidente e porterà, allo stesso tempo, a nostro avviso, nuove possibilità per la protezione di marchi e brevetti, ma chiaramente porta anche nuove minacce che sono generate dalle stesse tecnologie e dai nuovi modelli di business che si stanno generando. Quindi sono due aspetti che dobbiamo tenere ben presenti insieme. Cosa dobbiamo fare? La ricetta, sono tre cose principali, la ricerca sulle metodologie e tecnologie, la formazione e il trasferimento tecnologico verso le imprese, altrimenti la ricerca sulle tecnologie diventa fine a se stessa o se ne avvale, se ne possono avvalere altri paesi, altri soggetti che invece questo tipo di attività, di capacità ce l'hanno, e poi favorirla, appunto, l'adozione e anche facendo nascere nuove start-up tecnologie in grado di svilupparle, le soluzioni innovative. Noi siamo a questo punto, questa è una slide che si vede in tantissime presentazioni, rispetto agli indici di digitalizzazione del DESI, noi siamo sotto la media europea, quindi è evidente che noi ce l'abbiamo un problema, questo è uno dei problemi, il fatto che non siamo capaci di andare a sfruttare al meglio le potenzialità della tecnologia, rispetto invece ad altri paesi che lo fanno molto meglio. Allora dicevo, prima di tutto c'è la ricerca, una ricerca nella quale la capacità dell'università deve essere affiancata alle necessità delle imprese, quindi la capacità di avere delle progettualità che possono, diciamo, in qualche modo portare a terra quelle che sono le innovazioni tecnologici. Ho messo questo esempio che secondo me è significativo, insomma, il miliardo e sei del PNRR sulla misura che va a favorire la nascita di quattordici partenariati estesi, che ha fatto nascere quattordici partenariati estesi, appunto su quattordici ambiti tecnologici che vanno a approfondire l'intelligenza artificiale, la sabersicurezza, il 5G, la sostenibilità, eccetera, 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 e dentro quelle azioni ci sono sicuramente degli aspetti che possono poi far nascere, diciamo, essere applicata la protezione al contrasto alla contraffazione. Rispondere alle nuove sfide vuol dire, appunto, anche cercare, diciamo, di stimolare, come dicevo, la nascita di start-up e PM innovative. A sinistra vedete una serie di incentivi che sono stati dati in questi anni, non sono tutti, sono solamente un pezzo, molte di quali sono state iniziative del MIMIT. L'effetto, anche probabilmente di queste azioni, è che a luglio 1993 le PMV innovative e le start-up erano 14.700 con una crescita del 17.4 rispetto al 2020, quindi c'è una crescita da questo punto di vista. Però c'è un però. Se noi andiamo a vedere, invece, quelle start-up, ecco, a sinistra, ecco, questo è un'altra slide che fa vedere anche un altro aspetto importante, scusate, è il fatto che, rispetto, diciamo, a tutte le imprese, quasi il 50% sono start-up che si occupano di ICT e di digitalizzazione, quindi che vanno esattamente nell'ottica di invertire quella tendenza, quei numeri, diciamo, che abbiamo visto nella slide sull'indice DESI. Però c'è un però. E il però è questo, è che se andiamo a vedere, invece, quelle che sono le start-up e PM innovative che dichiarano nel registro delle imprese di occuparsi di anticontraffazione, aggiungendoci anche la frode e la tracciabilità, vediamo che sono, rispetto a quelle 14.700, anche se quelle riguardavano, diciamo, l'insieme non solo il 2020, che sono un numero molto basso. Allora, questo ci porta a dire che su questo fronte ci possa essere un terreno da coltivare, cioè quello di cercare di capire e poi mettere in campo delle azioni che possono, diciamo, avere un'inversione di tendenza su questo tema. Una delle possibili letture, una delle possibili che vengono anche menzionate dalle start-up di criticità sono appunto lo sbocco dei mercati, cioè non avere poi, nel momento in cui sviluppano una soluzione, un mercato che è pronto a ricevere, e mi sembra coerente con quello che abbiamo detto. E quindi in questo senso, diciamo, dobbiamo mettere in campo delle soluzioni innovative che favoriscono, cioè che in qualche modo tengono insieme, favoriscono un'offerta e la domanda, cioè accorciare, diciamo, anche le tempistiche e favorire i contatti, diciamo, fra l'offerta e la domanda. Qui c'era un esempio che mi sembrava significativo, che era un'iniziativa ancora in corso, insomma, del liceo, nel quale appunto c'era proprio, che riguarda la blockchain, che c'era proprio questo, questo tentativo di andare a individuare le soluzioni, ma poi immediatamente di capire, diciamo, come queste potessero immediatamente essere messe a disposizione. Mi fermo qui e vi ringrazio nuovamente per l'opportunità. Allora, noi come Ministero e altri colleghi degli altri enti ci occupiamo delle politiche. Poi abbiamo anche all'interno dello Stato e del sistema pubblico italiano i nostri bracci operativi. Uno di questi è l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, che ovviamente mette poi a terra quelle che sono le vere politiche di anticontraffazione e le tecnologie per l'anticontraffazione. Loro sono molto esperti, ovviamente, sulle banconote, sulle monete, sui francobolli, sulle accise, ma adesso la madre di tutte le battaglie è che col nuovo disegno di legge sul Made in Italy passeranno anche ai beni perché stiamo per mettere in piedi una delle grandi innovazioni che è quella del contrassegno di Stato, del Made in, in particolare per i prodotti che vorremmo esportare che contengono l'origine italiana e che in qualche modo dovrà essere portatrice sia della regola di origine ma anche di un contenuto, diciamo, di blockchain, di traceabilità, di quello che la tecnologia ci dirà che potrà essere utile al consumatore conoscere. Do quindi la parola a Luca Sciascia, responsabile soluzioni anticontraffazione e tracciabilità dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Prego. Grazie, grazie. Buonasera a tutti. Ringrazio il direttore Teti per l'invito, la dottoressa Alessandro, con la quale abbiamo collaborato in questi mesi per portare poi a compimento un accordo di cui poi vi parlerò nel proseguo dell'intervento e come appunto diceva il direttore Teti abbiamo di fronte a noi una grandissima sfida, una sfida che il Poligrafico, ecco utilizzo i pochi minuti di introduzione per raccontare un po' il ruolo del Poligrafico e poi venire quindi a questa nuova sfida. Il Poligrafico è un'azienda di Stato e da oltre 90 anni sviluppa delle soluzioni di anticontraffazione sia fisiche che digitali per tutelare beni, cittadini e servizi garantiti dallo Stato. Ecco, noi dal punto di vista della produzione, noi realizziamo ogni anno oltre 12 miliardi di marcatori fisici. Questi marcatori fisici sono prodotti seguendo una normativa molto stringente delle carte valori, le cosiddette carte valori definite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e seguono degli standard di produzione, quindi di stampa di sicurezza, che sono assimilabili a quelli appunto delle banconote euro, come appunto anticipava il direttore Teti. Proprio perché noi realizziamo anche le banconote dal 2018, grazie a un accordo con Banca d'Italia, realizziamo le banconote euro e appunto siamo stati accreditati recentemente anche dalla BCE, dalla Banca Europea. E la particolarità del nostro ruolo è quella appunto di realizzare sostanzialmente delle piccole banconote che ciascuno di noi, sia in termini come cittadini o come consumatori, utilizziamo quotidianamente. Uno dei due esempi che vi porto come casi di successo, secondo noi e secondo il mercato, sono quello dei contrassegni di Stato per i vini DOCG e DOC e i bolini farmaceutici. Partendo dal primo caso, perché è testimonianza di un successo? Perché c'è una normativa di riferimento che obbliga i vini DOCG a utilizzare i nostri contrassegni, mentre per quanto riguarda i vini DOC, che sono quelle fascette particolari, blu, che insomma penso quasi tutti conosciamo, sono volontari e siamo partiti dai numeri a livello storico nel 2013 a produrre circa 400 milioni di contrassegni DOC, quindi ad adesione volontaria. Siamo arrivati a un miliardo e sei negli ultimi anni e anche quest'anno. Quindi c'è una testimonianza da parte del mercato, quindi da parte dei produttori, di scegliere in maniera volontaria queste piccole banconote. Oltre tutto alcune ricerche hanno testimoniato negli ultimi sondaggi, in ricerca Nomisma, che il 16-17% dei consumatori quando va a acquistare un vino acquista perché c'è la fascetta sul collo della bottiglia. E oltre 100 consorzi appunto hanno aderito a questo sistema virtuoso che fondamentalmente si basa su un modello, che è un modello che noi riteniamo che raggiunge un livello di deterrenza molto elevato e che potremo poi estendere anche altri beni e servizi che si vorrà far garantire all'interno del Made in Italy e sono appunto uno è l'elemento imprescindibile del marcatore fisico. Questo marcatore fisico è sicuro appunto perché segue una produzione stringente lato nostro interno, diciamo come poligrafico, garantiti dallo Stato e due perché ogni singolo marcatore fisico è contraddistinto da un codice univoco. Quindi quel codice univoco innanzitutto identifica, riconosce in maniera univoca ogni singolo bene e lo segue lungo tutto il ciclo di vita. Infatti noi per quanto riguarda i contrassegni di Stato per i vervini oltre a vedere un codice univoco indichiamo all'interno sopra appunto la fascetta la capacità e il litraggio. Che cosa succede? Che noi consegniamo su richiesta agli organismi di certificazione un totale di contrassegni che raggiunge ogni anno circa 2 miliardi questo totale diciamo è lo stesso quantitativo diciamo in termini di se noi andassimo a sommare tutte le capacità in litraggio 0,75, 0,325 eccetera è lo stesso che viene stimato dalle cantine dai produttori a inizio anno cioè quanto fa bisogno della raccolta di uva verrà trasformato in vino, in nettolitri quindi fondamentalmente c'è un controllo ulteriore quindi oltre chiaramente alla sicurezza della fascetta c'è un controllo di altri soggetti lungo tutta la filiera che partecipano in maniera attiva a questo modello di tracciabilità che avvenga appunto al terzo punto cioè quello di abbinare a una piccola banconota, a un codice univoco un modello di tracciabilità che può essere più o meno pervasivo ovvero più o meno partecipativo da parte dei soggetti all'interno della filiera distributiva produttiva e chiaramente anche il consumatore deve secondo noi avere un ruolo infatti per quanto riguarda sempre i vini noi abbiamo realizzato un'app gratuita che consente al consumatore di accedere a un patrimonio informativo che è certificato dall'ente di certificazione e il produttore aggiunge ulteriori informazioni quindi fa una verifica diciamo del codice univoco presente in etichetta presente in fascetta e può insomma se ha il piacere ovviamente di approfondire ulteriori informazioni per quanto riguarda la rintracciabilità e diciamo questo modello è stato chiaramente poi innovato e anche esteso all'ambito dell'agroalimentare abbiamo già diverse adesioni come l'acido balsamico di Modena l'olio di Roma IGP, il cioccolato di Modica IGP che quindi hanno aderito anche qui in modo volontario a questo sistema che consente di far conoscere il prodotto di più ai consumatori sia in Italia che soprattutto all'estero e crea questo legame indissolubile tra il consumatore e il consorzio e i produttori consentendo anche quello che noi riteniamo fondamentale un legame indissolubile tra il mondo reale e il mondo digitale perché chiaramente diciamo mentre la blockchain è nata nell'ambito bancario e chiaramente poi è stata estesa anche al mondo materiale riteniamo che un elemento sicuro che sia posto su ogni singolo bene possa essere il legame, il punto di accesso a una serie di informazioni che sono poi chiaramente certificate e questo è fondamentale e lo stesso modello ancora più pervasivo è quello presente nel mondo farmaceutico quindi noi su tutte le confezioni ad uso umano quindi qualsiasi medicinale viene immesso in commercio in Italia ha un bollino farmaceutico che è diciamo quell'etichetta che viene talvolta tolta dal farmacista e apposta sulla ricetta in caso di rimborso ecco questo modello è ancora più pervasivo rispetto a quello dell'agroalimentare e dei vini perché il Ministero della Salute ha un database chiamato NSIS che registra ogni movimentazione del farma quindi dal momento che l'azienda farmaceutica ci richiede a noi i bollini e ogni bollino fa riferimento oltre al codice univo che chiaramente ha anche il nome, il titolare della casa farmaceutica che ti ha richiesto quindi il responsabile del farmaco una volta richiesti in modo sicuro i bollini ogni movimentazione del farmaco quindi dal produttore al distributore fino alla dispensazione in farmacia viene tracciata in modalità digitale e questo consente anche di rintracciare chiaramente tutta la filiera consente il rimborso della spesa sanitaria nazionale quindi circa 30 miliardi l'anno consente anche ovviamente tutte le varie detrazioni e controlli da parte delle autorità perché sia nel campo dei vini ma soprattutto nel campo farmaceutico le autorità insieme a noi quindi insieme anche a guardia di finanza ai carabinieri, polizia a livello nazionale e internazionale possono fare delle verifiche puntuali sul bollino farmaceutico e quindi attestare l'autenticità o meno del farmaco e diciamo anche porto anche questo esempio questi esempi recenti siamo stati coinvolti nel ritrovamento di farmaci negli altri paesi europei che si consideravano sicuri ma non avevano chiaramente il nostro sistema bollino diciamo più sistema tracciabilità e è stata sventata diciamo l'introduzione di farmaci falsi o farmaci diciamo rubati negli ospedali italiani grazie alla presenza del bollino e questo diciamo per noi è stato un banto diciamo dal punto di vista del sistema non solo poligrafico ma del sistema nazionale diciamo pubblico e privato che ha dimostrato diciamo che i sistemi di questo tipo sono estremamente virtuosi vengo all'elemento di presentazione anche di annuncio quest'oggi dell'accordo proprio perché il poligrafico diciamo oltre a essere appunto un braccio operativo costantemente con la produzione appunto dei marcatori fisici della carta di identità elettronica del passaporto, delle targhe e tanti altri prodotti ci teniamo particolarmente a collaborare a cercare di trovare delle sinergie con le istituzioni e con chiaramente anche il mondo privato virtuoso e proprio per questo facendo seguito a dei protocolli diciamo stipulati appunto con la direzione generale abbiamo diciamo riavviato questa direzione questa intesa cercando diciamo di valorizzare e rendere ancora più operativo l'accordo proprio per arrivare diciamo a dare un valore aggiunto in modo sistemico non solo diciamo dal punto di vista formativo-informativo che è fondamentale perché anche quello chiaramente la consapevolezza diciamo è un passo decisivo da questo punto di vista abbiamo siglato appunto tra il poligrafico la direzione generale per la tutela della proprietà industriale UBM un nuovo accordo dal punto di vista operativo diciamo da poco il poligrafico è entrato anche all'interno come membro permanente del Consiglio Nazionale per la lotta dalla contraffazione all'Italian Sounding e lavoreremo quindi in modo sinergico nella condivisione di dati sulla contraffazione sull'Italian Sounding proprio per dare poi dei strumenti più operativi alle forze dell'ordine e anche diciamo chiaramente anche a noi insomma avendo conoscendo maggiormente il settore il mercato potremmo proporre soluzioni ancora più efficaci e allo stesso tempo diciamo collaboreremo per dare al poligrafico un ruolo di referente dal punto di vista dello sviluppo delle tecnologie legate alla blockchain anche con chiaramente con Ipsi proprio per creare quel legame ancora più forte tra il bene che è fisico da proteggere da tutelare da valorizzare chiaramente nell'ottica del Made in Italy e chiaramente tutti i dati che talvolta sono certificati talvolta non lo sono e quindi il legame crediamo insomma che il nostro ruolo possa essere sicuramente rilevante da questo punto di vista e concludo chiaramente con le attività formative e informative sicuramente lo sportello tecnologico continuerà questo sportello è un servizio di consulenza gratuita che il poligrafico insieme alla direzione generale mette a disposizione delle aziende private per approfondire studiare e anche realizzare delle soluzioni di anticontraffazione e tracciabilità proprio da parte delle aziende quindi chiaramente un supporto continuo e crediamo insomma che questo servizio che ha portato diversi risultati negli anni precedenti possa essere ancora di più proprio sfruttato dalle aziende e chiaramente apriremo delle sessioni comuni insomma anche sempre con le associazioni di categoria con le imprese proprio per trovare ulteriori sinergie pubblico-private e diffondere chiaramente le buone pratiche e anche per noi crescere ulteriormente proprio al servizio del paese termino qui ringrazio di nuovo nuovamente la direzione grazie grazie dottor Shasha stamattina ho avuto un incontro con il suo amministratore delegato e abbiamo giusto pensato che è proprio l'incontro con le imprese e comprendere da loro quelle che sono le loro dirette necessità che per noi è cosa fondamentale quindi presto faremo un evento assieme e anche credo assieme al nostro ministro adesso per allargare anche l'orizzonte internazionale di questo dibattito passo la parola alla dottoressa Maria Teresa Sapiente che è Legal Officer Building Respect for IEP Division Global Issue Sector di WIPO l'organizzazione mondiale della proprietà intellettuale di Ginevra prego dottoressa buon pomeriggio a tutti grazie soprattutto per questa opportunità vorrei personalmente ringraziare la dottoressa D'Alessandro che ha fatto sì che io possa partecipare a questa giornata conclusiva della settimana dedicata all'anticontraffazione dunque io vorrei dare appunto un mio piccolo contributo della dimensione internazionale di quello che è l'impatto della digitalizzazione sul quello che noi chiamiamo il Global IP Enforcement mi scuso innanzitutto per l'italiano che dopo 30 anni all'estero potrà avere qualche potrà fare qualche scafalcione come diceva la mia maestra degli elementari quindi mi scuso per questo mi scuso anche per gli anglicismi utilizzati nelle mie nella mia nella mia presentazione per quanto riguarda innanzitutto prima di continuare per coloro che non sono che non conoscono l'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale siamo un'agenzia specializzata autofinanziata dell'ONU fondata nel 1970 è il Foro Mondiale delle Politiche e dei Servizi Relativi a tutto ciò che concerne la proprietà intellettuale globale quindi consideriamo anche la proprietà industriale e la proprietà e il copyright con la missione quella di guidare uno sviluppo di un sistema internazionale di proprietà intellettuale che sia equilibrato sostenibile ed efficace e che permetta all'innovazione e alla creatività ad essere messe al servizio e al beneficio di tutti brevemente qualche cifra sull'OMPI o sulla WIPO sono rappresentati 193 stati membri 381 sono le organizzazioni governative intergovernative e non governative che sono accreditate come osservatori nei lavori della nostra organizzazione per un effettivo personale di quasi 1700 impiegati rappresentanti 127 nazionalità i quartieri generali sono qui a Ginevra ma siamo presenti in tutti i continenti con una particolare presenza in Asia con l'ufficio OMPI a Singapore uno a Tokyo e uno a Pechino per quanto riguarda questo mio intervento vorrei innanzitutto insomma partire un po' da quello che diceva il professore Sbordone rispetto a quello che si fa al di là dei confini non soltanto nazionali ma credo che sia molto forte il legame con l'impianto la struttura dell'Unione Europea della legislazione dell'Unione Europea a livello internazionale le cose insomma cambiano un attimo ed è vero quello che diceva il professore Sbordone non ci sono legislazioni diciamo non ci sono paesi che rispettano che siano allineati a dare un quadro un po' comune alla lotta alla contraffazione e alla pirateria digitale quindi questa mia presentazione questo mio intervento sarà innanzitutto all'identificare un attimo qual è il problema qual è il fenomeno la natura del fenomeno della contraffazione della pirateria nella loro accezione digitale quali sono le attività dell'OMPI in materia di enforcement e quelle che sono a livello internazionale le misure volontarie di coordinamento che sono in realtà un po' un antitodo alle lacune alle mancanze legislative internazionali di convenzioni internazionali di cui si parlava prima per quanto riguarda la natura del problema mi allaccio anche all'introduzione della dottoressa Spina se la globalizzazione ha facilitato la creazione di nuovi modelli economici e commerciali più dinamici più accessibili con la digitalizzazione le transazioni i movimenti di merci gli assets le competenze hanno permesso di superare alcuni ostacoli legati in particolar modo al controllo trasfrontaliero e alla extraterritorialità di certe giurisdizioni di certe legislazioni in realtà si è dato anche un grande input un grande supporto a coloro che fanno enforcement cioè a coloro che sono in prima linea nella lotta a questi fenomeni in un contesto però virtuale digitale complesso con operazioni e tecnologie sempre più avanzate e sofisticate senza un vero e proprio regolamentare ha fatto sì che l'espansione del fenomeno della vendita online di prodotti contraffatti sia assolutamente straordinario e che perché il mercato digitale e i mercati globali digitali sono fonte inestimabile di introiti in cui l'equazione per coloro che operano nella settore della contraffazione della pirateria perché sono delle vere e proprie organizzazioni criminali chiaramente hanno un'equazione molto semplice un'accessibilità chiaramente facilitata un accesso ai sistemi programmatici ai sistemi tecnologici a volte molto sofisticati ma non per le loro attività con un rischio per i traffici illegali la violazione sistematica dei diritti di proprietà industriale con un rischio zero quindi a rischio zero investimento minimo e guadagno stratosferico chiaramente i mercati globali il commercio globale digitale non può non essere un'attrazione per tutti coloro che lavorano chiaramente che operano nella criminalità e nella chiaramente nella illegalità questo ha anche per esempio facilitato i furti di trade secret che sono stati chiaramente che sono un aspetto non negligiabile come dicono i francesi facilitato chiaramente dalle tecnologie digitali il problema la proporzione del problema non si possono nemmeno quantificare a livello internazionale recenti studi dell'organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico e dell'ufficio europeo di proprietà intellettuale che risalgono al 2019 quindi non considerano la pandemia uno studio pubblicato nel 2021 quantifica in termini di percentuali di impatto sul commercio mondiale il valore dei beni tangibili piratari e contraffatti al 2% sul commercio mondiale che corrisponde a 119 miliardi di euro delle importazioni soltanto per esempio in Europa quindi le proporzioni sono già catastrofiche in questo senso nel senso di espansione del problema ma siamo soltanto di fronte alla cima dell'iceberg se non alla punta della cima dell'iceberg perché in realtà non ci sono statistiche non si può quantificare precisamente quanto dal punto di vista di mancato introito oppure di accesso finanziario da parte degli operatori illegali possono essere quantificati in termini di investimento e di ritorno per appunto per gli operatori di siti illegali uno dei settori che particolarmente ci sta caro e che monitoriamo in particolare è l'impatto della pubblicità digitale e quanto questa alimenta il mercato della pirateria illegale secondo questo recente studio condotto pubblicato nel 2021 tra i maggiori siti web che offrono contenuti piratati che siano essi per la vendita e la contrattazione e anche per i contenuti illegali si parla di circa dall'uno ai due miliardi di dollar di entrate pubblicitarie mancate comparati all'investimento fatto dai brand solo le app solo le 5 più conosciute app che diffondono contenuti illegali generano 250 milioni di dollari di entrate annue mancate per il rapporto all'investimento fatto dai titolari di diritti di proprietà intellettuale cosa fa l'OMPI l'OMPI ha una appunto una divisione dedicata proprio all'enforcement che è appunto la building respect for IP division ho lasciato specificatamente in inglese questa definizione perché in realtà è un concetto moderno di enforcement che non si limita soltanto alla parte punitiva che è appunto l'effettiva applicazione dei diritti di proprietà intellettuali e alla separazione del danno causato dalla separazione di tali diritti ma in un contesto un po' diciamo un approccio un po' più socio-economico quindi c'è una parte sì punitiva ma c'è anche una parte preventiva e educativa e in questo contesto l'attività della nostra divisione si occupa su quattro pilastri il dialogo politico e la cooperazione internazionale assistenza tecnica agli stati membri che ne fanno richiesta la sensibilizzazione e l'assistenza strategica e alla coordinazione io invito a fare un giro sulla pagina web della nostra divisione non mi soffermo molto su precisamente quali sono le nostre attività voglio soltanto ricordare che la prossima sessione del 21 gennaio e 2 febbraio ci sarà la prossima sessione del comitato consultativo che è l'advisory committee on enforcement dove appunto 193 paesi sono rappresentati da varie delegazioni che è stata chiamata un po' il marketplace dell'enforcement cioè dove ci sono appunto discussioni tematiche documentazioni e presentazioni soprattutto di scambio tra i vari paesi operatori nel settore chiaramente dell'enforcement l'italia è stata ogni anno presente sia con la guardia di finanza sia con il ministero sia con i rappresentanti dell'ufficio predetti quindi c'è una forte presenza italiana anche in questo nostro obitato al di là delle capacity building documentation della documentazione che che possiamo appunto che possono essere scaricate liberamente dal nostro sito ultimamente abbiamo lanciato due iniziative una è una serie di webinar sul rispetto per la proprietà intellettuale e una serie di podcast dedicati all'enforcement in maniera in materia di diritto di diritto d'autore anche qui vi invito a visitare il sito dell'OMPI in particolare della nostra pagina web ma veniamo un po' al dunque del mio intervento parlava il professor Sbordone di questa dell'importanza di avere di completare un attimo le lacune legislative alcuni paesi sono in ritardo altri sono un po' troppo avanzati quello che sta succedendo a livello internazionale proprio perché non c'è una coordinazione legislativa come potrebbe essere nell'ambito del territorio europeo con l'Unione Europea è la disfusione dalla metà degli anni 2010 dal 2011 al 2010 di una serie di iniziative quelle che chiamiamo le voluntary measures misure volontarie alternative di coordinamento sono misure che non si pongono in contrasto con quelle che sono le norme diciamo la procedura classica di fronte a un tribunale ma sono sempre più delle 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 iniziative di categoria da parte di aziende del settore privato virtuose come si diceva per giustamente collaborare per avere un gruppo comune contro quella che è la lotta sia alla contraffazione che alla pirateria digitale proprio perché a livello di sviluppi tecnologici così dinamici e così rapidi è necessario che ci sia una collaborazione ad un livello superiore e tra territoriale che va dal di là dei paesi degli stati membri in questo caso e quindi segnalo due grosse iniziative e importante nel 2012 l'iniziativa rockblog che è stata un'iniziativa della coalizione internazionale contro la contraffazione in cui diciamo è uno sforzo collaborativo che si fa tra i membri della appunto della coalizione internazionale contro la contraffazione e l'industria e in particolare con la diciamo la presenza attiva anche delle carte di credito dei payment processor e quindi credo che si dice fornitori di servizi di pagamento o di sistemi di pagamento per segnalare quelli che sono i siti illegali dove appunto c'è vendita di merci contraffatte o contenuti piratati e da lì segnalare ai sistemi delle carte di credito e dei servizi finanziari che hanno i sistemi antifrode questi siti un'altra iniziativa nel 2014 fu appunto la creazione del Trustworthy Accountability Group che è la prima iniziativa lanciata dall'associazione americana di agenzie pubblicitarie insieme con quella degli inversionisti nazionali e l'Interactive Advertising Bureau che mette appunto che crea appunto un gruppo di condivisione di informazioni sul traffico fraudolento e che possono mettere in oppure le informazioni che sono legate al brand safety all'approccio alla strategia del brand del brand safety nel 2015 però si avverte soprattutto in Europa e ci tengo a precisare che sia l'Europa in quanto territorio giurisdizione sia anche l'Italia come paese leader nella legislazione non ci sono altri grandi agglomerati di stati che hanno fatto tanto per avanzare nella creazione e nello sviluppo di un sistema normativo quindi il digital service act è forse la norma più all'avanguardia che attualmente abbiamo a livello internazionale dal 2015 si sono avvertiti è cominciato la Gran Bretagna ma può essere seguita l'Italia con la creazione dell'agicom e in seguito anche altri paesi come la Grecia come la Grecia come la Portogallo hanno messo in piedi dei sistemi che adottano il sistema del cosiddetto infringing website list che vedremo che sviluppero più tardi questo sistema in realtà ha dato appunto numerosi numerosi risultati sono chiaramente misure volontarie ed è stata una dei sistemi che hanno fatto anche scattare in Europa due importanti memorandum of understanding che poi in realtà sono delle anche lì sono degli intenti sono delle gruppi di sia pubblico privato sia specificamente dell'industria in entrambi i casi sono due memorandum che permettono all'industria alle istituzioni private e le istituzioni pubbliche nonché alle industrie anche lì di fare dell'information changing forte di questa tendenza appunto a ingaggiare tavoli di discussione di cooperazione e di coordinazione l'OMPI nel 2019 ha lanciato il Wipe Alert il Wipe Alert è una piattaforma internazionale gratuita e gestita e sottoposta agli standard di protezione dei dati tecnologici che si applicano a tutti i servizi OMPI che ha praticamente beneficiato come primo firmatario l'Agicom appunto e per poter dare una risposta diciamo internazionale a quella che è l'aspetto preventivo cioè prevenire che prodotti in questo caso specifico la Wipe Alert si indirizza a tutti i prodotti a contenuto di diritto d'autore quindi prodotti piratati nel settore dell'industria dell'industria pubblicitaria perché perché la pubblicità in linea la pubblicità online la pubblicità digitale negli ultimi negli ultimi anni è diventata una forma estremamente importante di introito per per i siti per gli operatori di siti illegali molto spesso anche all'insaputa dei brand molto spesso le pubblicità legittimamente pagate e legittimamente immesse nella nel nel sistema digitale i cosiddetti sistemi automatici di programmazione digitale possono trovarsi o vengono completamente dirottate questo è un esempio nella nella slide che vedete possono essere completamente dirottate su siti illegali questo è un sito chiaramente pirata in cui abbiamo è possibile scaricare interamente un film con la pubblicità di netflix che è una pubblicità legittima ed è una pubblicità che in più è prodotta da double click che è appunto una società di google e quindi sostenuta da tutto il sistema google art in questo caso non soltanto abbiamo un consumatore chiaramente ignaro ma addirittura falsato anche se fosse un consumatore attento in questo caso la sua attenzione sarebbe svilata dal fatto che legittimamente vede una pubblicità di netflix è chiaro che c'è una tendenza sempre a giustificare il consumatore come un po' naiva però in questo caso è veramente ovvio che anche il consumatore più accorto non potrebbe distinguere o avrebbe comunque dei dubbi se sta scaricando un sito se sta scaricando un film da un sito illegale se questa fosse una pubblicità invece di un brand è chiaro che se ci fosse non so netflix se ci fosse non so prada si potrebbe ben pensare che prada si pubblicizza su di un sito illegale giusto appunto per fare pubblicità e questo potrebbe ecco avere un impatto negativo sulla reputazione del brand il modello commerciale della pirateria che sia essa di vendita di contraffazione digitale o che sia di contenuti pirati è sempre lo stesso abbiamo introiti che sono generati dalle pubblicità dalle donazioni dagli abbonamenti con un costo anche qui abbiamo l'equazione con un costo dell'hosting delle infrastrutture minimo per poi invece andare a raggiungere un audience globale perché i consumatori sono facilmente reperibili e quindi c'è comunque un riscontro del prodotto venduto o soprattutto della visualizzazione della pubblicità in questo caso questo è un bravissimo schema di come funzionano le infringing website list che poi in realtà sono le cosiddette sites blocking list quelle diciamo di blocco dei siti attraverso procedure snelle che non siano quelle che passano davanti al tribunale in realtà in realtà i paesi che hanno adottato questo tipo di questo tipo di sistemi lo fanno soprattutto perché il settore il settore pubblicitario è un come dire è un settore estremamente dinamico dal punto di vista tecnologico e quindi in questo caso raccogliere le informazioni sui siti che violano la proprietà intellettuale e condividerle con il settore pubblicitario permette a monte di evitare che campagne pubblicitarie siano diciamo così lanciate nel programma nella nel 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 apporto lancio programmatico del pubblicitario nel cosiddetto tube quello che chiamano i pubblicitari tube ancora prima che possano essere diciamo così dirottate dagli operatori di siti di siti privati il wipe alert in realtà è una piattaforma come ho detto molto semplice ma che però sta dando estremi estremamente degli ottimi risultati in termini di partecipazione da parte degli stati membri perché in realtà è una piattaforma che permette anche la cooperazione internazionale tra stati che già hanno un sistema di blocco e quindi che compilano liste di siti illegali e invece paesi che stanno riflettendo a come affrontare questo problema di prevenzione è una piattaforma chiaramente che facilita la condivisione delle informazioni tra le autorità e gli enti o gli enti nazionali che sono come nel caso dell'Agicom come nel caso della commissione di diritto la commissione della commissione del copyright commission del ministero della cultura spagnola per esempio permettono di condividere queste liste in maniera chiaramente gratuita e quindi permettono anche soprattutto di comunicare con altri paesi come nel caso recentemente delle filippine che si sono ispirati al sistema wipe alert per poter poi installare nel loro paese un sistema che è simile a quello dell'Agicom ho detto che la piattaforma è ospitata dai server della OMPI c'è un'aggregazione chiaramente di informazioni dei vari paesi che versano le loro liste su questa piattaforma e queste liste poi vengono messe a disposizione degli operatori del settore in questo caso del settore della pubblicità dell'industria pubblicitaria l'accesso prevede degli strumenti legali molto flessibili e l'effetto diciamo così l'effetto wow di questa piattaforma sta nel fatto che permette di passare oltrepassare i confini nazionali quindi se un sito è bloccato in Italia ma è attivo non so in Grecia o in Spagna le autorità spagnole e greghe possono attingere dalla piattaforma l'informazione che è data dall'agicom il sistema visualizzato più o meno è come questo appunto vediamo in questa in questa slide non mi soffermo più di tanto volevo semplicemente dire che attualmente abbiamo 30 utilizzatori utenti autorizzati 14 stati membri ne fanno parte io sono orgogliosissima di aver avuto i dirigenti dell'agicom come primi come primi supporter di questa di questa attività e siamo arrivati grazie le collaborazioni con le varie con i vari stati membri attualmente a più di 13 mila domini che sono stati caricati e aggregati sulla piattaforma OMPI di cui 7 mila sono attivi sono stati identificati come attivi forte di queste esperienze di questa piattaforma abbiamo pensato di lanciare una seconda piattaforma che è ancora lo stato molto concettuale dedicata però in questo caso all'aspetto a quella che è la fascia di contraffazione cioè i siti che vendono contraffazione online lo stesso lo stesso concetto la piattaforma amministrata e gestita dalla OMPI con l'obiettivo di prevenire la vendita online di merci contraffatte e di servizi televisivi per abbonamento chiaramente pirati sviluppare una cooperazione su base volontaria tra i titolari di diritti e i fornitori di servizi finanziari e di pagamento in modo tale che il 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 brand presenta la lista perché come diceva poc'anzi il professore il professore Sbordone le grandi società le grandi aziende hanno sofisticatissimi sistemi di monitoraggio al loro interno quindi provvedono a una lista secondo criteri abbastanza specifici che saranno poi sottoposti alla OMPI per un secondo scrutinio e una notifica di di warning per il l'operatore del sito in questione e poi verranno forniti alla ai fornitori di servizi e sistemi finanziari che utilizzeranno questa informazione nei loro sistemi antifrode e e antiparsi questo sistema chiaramente è ancora in stato embrionale ricerchiamo attualmente volontari per lanciare il progetto pilota siamo in discussione con sia da parte dei payment processors che da parte dei titolari di brand e di società e appunto di trovare i diritti stiamo in discussione per poter appunto mettere in atto il progetto pilota pensiamo che poterlo lanciare all'inizio primo semestre dell'anno prossimo finalmente poi ho un altro progetto sul quale stiamo lavorando ed è il progetto WIPO IPAS Customs Recordation System io so che l'Italia ha un avanzatissimo sistema di registrazione organale non che c'è anche poi la connessione con i sistemi con il sistema europeo l'Aumpi ha creato attualmente vorrebbe creare un vorrebbe fare un merge tra i sistemi nazionali di registro doganale e la Industrial Property Administration System che è un sistema di amministrazione di proprietà intellettuale un software sviluppato dalla OMPi che viene offerto agli uffici di proprietà industriale stiamo ancora a studio creare questo software per una gestione elettronica di dati di processi dei documenti associati alla registrazione delle domande di proprietà industriali per permettere appunto alle dogane e agli uffici di proprietà intellettuale di comunicare tra di loro sembra essere una domanda che viene da più parti e quindi vorremmo poter realizzare questo progetto questo software ripeto attualmente siamo alla fase diciamo di compilazione della documentazione delle pratiche di registrazione nazionale seguirà sicuramente un progetto pilota per poi lanciare definitivamente questo software quindi molte cose sono in cantiere e io mi piacerebbe poter mantenere dei contatti di network anche con l'audience di questo di questo evento proprio per far conoscere quello che è al di là dell'europa e al di là delle frontiere nazionali quelle che sono le attività gli studi e la documentazione che è disponibile gratuitamente sul sito internet io spero di non essermi dilungata troppo ringrazio la ringrazio di la partecipazione e se ci sono domande sono disponibilissima grazie grazie abbiamo visto abbiamo visto quanto sia ancora enorme il mercato del contraffatto ha parlato del 2% degli scambi mondiali dottoressa e quindi credo che è importante che questo allargamento in qualche modo si restringa questo è quanto meno quello che tutti ci auspichiamo e abbiamo visto quanto il mercato si sia ancora più ingrandito nella sua forma online abbiamo ascoltato parlare di piattaforme in particolare di altre piattaforme ma per la par condicio è giusto anche parlare di concorrenza e di una piattaforma molto importante qual è Alibaba Alibaba come tante altre piattaforme si è dotata di un proprio sistema di uffici anticontraffazione e oggi abbiamo qui con noi il dottor Claudio Bergonzi che è proprio il direttore dell'inforcement IP di Alibaba prego Claudio grazie direttore grazie a Antonella D'Alessandro tutto lo staff e al Mimit per per averci invitato è il secondo ho fatto un altro speech sempre nella settimana due giorni fa perché questo dimostra quanto in realtà sia importante molti dei temi che abbiamo trattato oggi alcuni mi hanno visto giocare col telefono in realtà non stavo facendo i fatti miei prendevo note perché poi essere l'ultimo credo relatore della giornata ha anche i suoi vantaggi ti devo parzialmente correggere perché in realtà due cose in questo settore cioè noi Alibaba e Amazon o altre piattaforme possono essere competitor effettivamente nel business che fanno ogni giorno quando parliamo di IP Protection non c'è competition qua tra di noi anzi è vero con questa piattaforma e altre collaboriamo spesso ci scambiamo molte informazioni proprio legate al fatto che vogliamo evitare che quelli che noi nella nostra industria chiamiamo i bad actors vadano a fare i nomadi da una piattaforma all'altra cioè non è sufficiente che se ne vadano via da noi per arrivare dagli altri cerchiamo di fare in modo che se ne stiano fuori definitivamente e dicevo è un vantaggio aver ascoltato vari interventi perché così adesso vedrete una serie di slide se la dottoressa si è scusata dell'inglesismo che poteva usare qui proprio è un disastro perché le slide sono in inglese ed è questa la seconda volta io sono in Alibaba da un anno e un mese prima lavoravo nell'altra piattaforma citata giusto per concludere la cosa ed è la seconda volta dopo mercoledì che faccio questa presentazione in italiano per cui ogni tanto ci scappano dentro delle parole in italiano perché più delle volte è un inglesismo giusto per fare una breve panoramica questo è anche un tema trattato che cos'è il gruppo Alibaba non è questo uno spot ma è giusto per far capire che noi abbiamo piattaforme in giro per il mondo che coprono diverse tipologie di business nell'e-commerce sostanzialmente ci sono due tipologie di business il B2B cioè il business to business che vale a dire aziende che vendono ad aziende e il B2C poi ci sarebbe il B2C anche quindi consumer to consumer che noi abbiamo anche e poi il business to consumer che è il nostro core diciamo così di piattaforme che sono aziende che vengono a soggetti privati quindi è il classico modello del marketplace nel nostro caso noi abbiamo alcune piattaforme che sono China to China cioè sono cinesi per consumatori cinesi quindi sono quelle che noi chiamiamo domestiche noi siamo una società multinazionale con sede in Cina non è una questione semantica è il fatto che sicuramente l'azienda è nata in Cina a Dangzhou ma oggi è presente con alcune delle sue piattaforme internazionali in più di circa 200 paesi nel mondo poi abbiamo piattaforme internazionali e questa cosa sempre B2B B2C per cui distinzione che di modelli di business che non è secondaria ma il fatto che ci siano piattaforme internazionali va a toccare alcuni dei temi che abbiamo toccato oggi che il professore e la dottoressa Sapienza del WIPO toccavano relativamente un po' agli ambiti legislativi agli scenari legislativi nei quali ci si muove come piattaforme e il fatto che noi abbiamo piattaforme domestiche e piattaforme internazionali è sempre da tenere in forte considerazione da parte di tutti gli operatori in primisi titolare di diritto che cercano di proteggere i loro diritti ma che necessariamente hanno bisogno di avere diritti invalidi nel paese in questo caso in Cina nel quale poi desiderano proteggerli sulle nostre piattaforme detto questo andiamo un attimo avanti poi in realtà oggi il tema è la tecnologia e ci arriviamo quindi non sono diciamo le cose che vi sto per dire adesso introducono in realtà il tema dell'enforcement dei diritti e della protezione dei diritti di proprietà intellettuale su una piattaforma quindi come abbiamo visto multi multi paese e multi business la strategia che Alibaba nel corso degli anni Alibaba è nata nel del 98 credo 99 sì nel 99 e quindi è relativamente giovane come azienda in sé nell'e-commerce chiaramente di meno perché l'e-commerce è nato più o meno attorno a quelle quelle epoche lì e sin dal 2002 quindi siamo quasi tre anni dopo la fondazione ha iniziato subito a mettere a disposizione dei sistemi un po' più strutturati di reporting delle violazioni oggi siamo arrivati a queste cose qua che per noi identifichiamo come i quattro pilastri della protezione che spaziano dalla quelli che sono i sistemi di notifica e rimozione dei listing in violazione il secondo passaggio se non le misure proattive mi fermerò perché è un po' il cuore del tema di oggi cioè la tecnologia il terzo pilastro fondamentale come volevo dire come ho detto prima non ci basta che se ne vadano via dalla nostra piattaforma quindi che facciamo dei takedown efficaci e che li preveniamo quindi il secondo pilastro dall'arrivare sulle nostre piattaforme vogliamo mandarli fuori dal mercato terzo pilastro quindi la collaborazione offline con le forze dell'ordine e poi chiude il cerchio tutto il resto cioè la collaborazione se ne è parlato ancora in varie interventi sul fatto che i sistemi vadano alimentati parlando di diritti IP e di soggetti che si proteggono sulle piattaforme giusto per dare alcuni volumi che è interessante per partire dalla prospettiva della tecnologia che dobbiamo affrontare oggi allora noi questi sono dati alla fine del 2022 perché abbiamo dei conteggi che non sono dinamici cioè in realtà sì i sistemi se interrogati darebbero un risponso dinamico tuttavia preferiamo spesso congelare i dati in un certo momento per poi essere sicuri di averli in tempo reale e questi sono dati alla fine del 2022 quindi tra un po' arriveremo tra un po' all'inizio dell'anno prossimo arriveremo ad avere ragionevolmente i dati di tutto quest'anno che sono in crescita cosa sono questi due dati nella parte di sinistra sono i soggetti che hanno registrato i loro diritti sulle nostre piattaforme cosa significa il professore prima citava un altro sistema di un'altra piattaforma allora da noi il sistema in cui il titolare di diritto l'azienda ma anche l'individuo se ha un copyright entra per la prima volta nel mondo Alibaba si chiama IP Protection Platform IPP Platform è un portale nel quale l'azienda entra si profila e poi fa il secondo passaggio che è caricare i suoi titoli di proprietà intellettuale quali ovviamente se deve lavorare su una piattaforma deve lavorare nel senso deve proteggersi su una delle nostre piattaforme domestiche dovrà caricare un titolo valido in Cina se si deve proteggere su una delle nostre piattaforme internazionali noi siamo molto elastici e quindi basta che abbia una registrazione internazionale significa che se Alibaba.com che è una piattaforma che opera in 200 paesi al mondo quindi fuori dalla Cina devo io sono un'azienda devo registrarmi perché ho visto un listing che mi sembra stia violando un mio diritto vado mi registro carico un titolo quale? un titolo EUIPO un titolo italiano un titolo francese un titolo UAIPO mi è capitato un titolo indonesiano l'altro giorno esercitato per proteggere un listing visibile in Francia ci sta lo accettiamo perché è un titolo internazionalmente registrato i titoli sono la parte di destra cioè in questo momento abbiamo un po' più di un titolo per titolare di diritto che si registra da noi cosa registrano i titolari di diritto il titolo quando serve che lo registrino cioè non chiediamo che se uno ha un portfoglio di mille titoli li registri tutti in una volta tutti e mille registrare un titolo significa entrare nella piattaforma e caricare il certificato quell'informazione lì è la prima che permette alla nostra tecnologia e adesso entriamo nel capitolo della tecnologia di iniziare a fare determinate cose perché fino a quel momento lì Alibaba non sa nulla dell'azienda del suo portfoglio IP neanche delle aziende più famose questa è una cosa che ho detto mercoledì Andrea se la ricorderà perché noi abbiamo delle reazioni a volte istintive emozionali vediamo un'azienda italiana famosa perché di quella stavamo parlando con un listing che può essere ragionevolmente in violazione siamo emozionalmente portati a dire beh famosa è impossibile che non ve ne siate accorti in realtà poi vi do la scala per la quale non ce ne siamo accorti ma di fatto la piattaforma fino a che non ci sono quei due passaggi di qui sopra non è in grado di capire che cosa sta in quel momento avvenendo nel suo ambiente la tecnologia è necessaria su una piattaforma per fare una serie di aspetti anche qui voglio sempre sgombrare il campo la protezione dell'IP non è data da una misura sola quindi non c'è l'image recognition che miracolosamente riesce a riconoscere tutte le fotografie illecite da quelle lecite ma neanche è vero che funziona solo la text recognition neanche è vero che funziona solo un altro tipo di intelligenza sono tanti sistemi diversi e centinaia di persone che stanno dietro i sistemi che lavorano per fare in modo che le informazioni disponibili diventino istruzioni ai sistemi per andare a prevenire e a rimuovere dobbiamo farlo velocemente questi sono gli standard che ci siamo dati in cui noi abbiamo nel 98% dei casi processiamo le richieste di rimozione dei listing entro le 24 ore la velocità è necessaria perché stiamo parlando di soggetti che quando sono in malafede cioè vogliono pubblicare sulle nostre piattaforme contenuti illegali sono anche molto veloci nel cambiare il contenuto a rimanere sempre sulla piattaforma ma a cambiare il contenuto cambio la fotografia perché ho capito che potrebbe essere a rischio cambio il titolo fanno moltissimi tentativi fanno tanti tentativi hanno per esempio listing diversi e fanno i tentativi in uno vanno più avanti con le immagini in uno vanno più avanti con i testi e cercano di capire dove i nostri sistemi intervengono più velocemente ovviamente quando capiamo che c'è questo giochino andiamo alla radice non aspettiamo che continuino a farlo il dato di sinistro è figlio di destra è figlio della tecnologia cioè il 93% delle rimozioni proattive che abbiamo fatto grazie alle informazioni che conoscevamo è avvenuto prima che il listing andasse in live cioè che raggiungesse un consumatore concludendo il discorso sulle diritti questi sono diritti sui generis come si dice le indicazioni geografiche sono un tema centrale per Alibaba non fosse altro che nel 2016 Alibaba fu pioniera tra le marketplace ma il ministero delle politiche agricole italiano fu pioniero in questa pioniere in questo pionierismo fu firmato un accordo memorandum of understanding tra il ministero e Alibaba per proteggere un tot di indicazioni geografiche italiane più rilevanti non vuol dire che le altre non sono protette ma significa che le indicazioni geografiche oggetto del protocollo che quest'anno febbraio è arrivata la sua quarta firma perché ogni due anni lo rifirmiamo e aggiungiamo cose o modifichiamo cose tra di noi quindi c'è un dialogo continuo con il ministero non significa che le altre GI italiane non siano protette ma ci focalizziamo oggi su 44 GI italiane particolarmente a rischio e l'accordo mira a scambiare informazioni più accurate cioè il ministero continua a scambiare con noi per meglio dire l'ICQRF in questo caso scambia con noi informazioni su anche i nuovi trend che loro vedono anche offline di infringement alle indicazioni geografiche e queste informazioni sono essenziali perché poi noi riusciamo ad andare a sistemare ad aggiornare i sistemi e permettere i sistemi di andare a capire se abbiamo delle violazioni in essere o come prevenire altre violazioni quindi il 93% che dicevo prima la tecnologia quindi come dicevo io amo sempre dire non stiamo parlando di magia qua la tecnologia che c'è dietro una piattaforma come dicevo è multiprogramma io lavoravo alcuni anni fa nel mondo dei marchi delle aziende quindi quando passai ad un marketplace la prima cosa che mi stupì fu la quantità di gente che lavora sulla protezione chiamiamola così degli IP in ogni senso ecco non c'è solo la repressione lo vedremo dopo spesso bisogna prevenire l'infringement e la quantità di programmi pressoché infinita che c'è dietro questo perché perché abbiamo un volume di scala enorme solamente sulle nostre piattaforme che vi ho descritto prima noi abbiamo una media giornaliera di circa 3 miliardi di listing attivi cioè 3 miliardi di listing sono un X esponenziale di informazioni perché ci sono i titoli le descrizioni di pagina i commenti dei clienti e le fotografie per rimanere a 4 macroambiti su questi 3 miliardi ogni giorno i nostri sistemi fanno 30 miliardi di scan il professore prima citava il fatto che alcune società specializzate fanno lo scan della rete noi facciamo scan al nostro interno basato però su cosa non ci sono i maghi dietro qua ci sono le informazioni cioè ogni informazione che a noi arriva dal momento in cui l'azienda si profila sul nostro sistema carica un trademark certificate ci riporta una violazione e ci spiega perché quella cosa lì è una violazione spesso per le aziende è un carico ci dicono doverci descrivere perché è una violazione beh ma senza quello noi non possiamo decidere e quella informazione ci permette di capire e di dare istruzioni ai sistemi vari di artificial intelligence perché vadano a fare in maniera efficace questi 30 miliardi di scan giornalieri un giorno recentemente un'associazione a Bruxelles ci ha chiesto ogni quanto vengono aggiornati gli algoritmi non c'è un dato perché nel momento in cui io ho fatto ho risposto con una frase l'algoritmo è stato aggiornato n volte perché ogni volta che l'algoritmo fa uno scan ogni volta che un titolare di diritto ci riporta un caso quello è un aggiornamento all'algoritmo e l'algoritmo autoapprende e continuando a fare scan continua ad autoapprendere i falsi positivi e i falsi negativi sono due cose che continuano a guidare la nostra strada perché noi dobbiamo anche evitare di prevenire listing leciti dall'andare online perché questo sarebbe un danno all'azienda che vuole pubblicare cosa c'è dietro quindi non ci sono i maghi ma ci sono centinaia di analisi di rischio noi analizziamo in tempo reale quello che noi chiamiamo il seller behavior il comportamento dei venditori se vediamo che ci sono anomalie in alcuni indicatori decine nel traffico nelle transazioni anomale in certe azioni che non posso dire ma che fanno sul loro account quelli lì vengono presi come indicatori di rischio e il sistema di intelligenza artificiale li prende e li mette in un altro sistema che ulteriormente va a fare un'analisi ancora più approfondita e va a cercare se dietro a quella ci sono altri elementi va a cercare se tra di loro sono connessi quindi il giochino che dicevo prima ci provano cambiando testi foto vogliono vedere dove il nostro sistema va meglio alla fine dura poco perché quando capiamo che loro stanno giocando noi alziamo l'asticella come si dice quindi li mandiamo fuori dal gioco capiamo se ci sono connessioni tra loro in base a molteplici fattori non ci basta il nome per dire nome che peraltro fa parte di quelle informazioni pubbliche cioè chiunque vede il nome del venditore che opera sulle nostre piattaforme e quindi a sua volta chiunque lo veda può fare determinate indagini come in effetti avviene le customer review vengono analizzate perché customer review ci dicono delle cose alle vostre clienti dicono bellissima sta cosa che ci hai mandato è uguale all'originale dall'inizio preso e identificato non l'utente voglio dire preso e identificato l'offerta come un'offerta illegale se ci sono altri elementi andiamo a bloccare in maniera in crescita il sistema che punizioni ci sono le punizioni sono in questo caso uniformate nelle nostre piattaforme non importa se siano domestiche o internazionali e anche qua siamo molto chiari e devo dire abbastanza ai primi posti tra quelli che fanno il nostro mestiere se c'è una contraffazione da noi vige la politica dei press strikes cioè tre volte ti vieni trovato a vendere prodotto contraffatto alla terza sei fuori e sei fuori definitivamente dalle nostre piattaforme normalmente quello che vediamo nella stragrande maggioranza dei casi non vanno oltre la seconda in questo ci bisogna leggere due cose uno lo scopo di enforcement che è necessario cioè noi dobbiamo fare in modo che vadano fuori ma due c'è alle volte anche un lavoro educativo su seller non crediamo che tutti i seller siano in mala fede questo non è vero alle volte fanno degli errori e tra mille cento listing che hanno uno è in contraffazione questo viene rimosso lui viene gli viene combinata una pena che è questo strike alla seconda e la terza va fuori normalmente non vanno oltre la seconda c'è però una piattaforma in cui abbiamo una one strike policy che è Tmall è una piattaforma business to consumer per la Cina in cui c'è un meccanismo particolare anche di verifica di chi vende perché generalmente vendono le aziende poi chi non è un'azienda deve dimostrare di avere una autorizzazione dell'azienda per vendere lì e comunque nonostante blocchi e l'entrata molto alti abbiamo una one strike policy cioè una volta vieni riportato quella volta esci e ci esci per sempre questa cosa è necessaria poi dopo ci sono per le altre violazioni una serie di sistemi che vanno a creare la loro chiediamo una fedina perché poi i nostri sistemi permettano di contare gli errori e alla fine prendere le misure più adeguate andando velocitamente in avanti però dicevo questo qua abbiamo parlato di enforcement e di come funziona l'enforcement ma alle volte è necessario riuscire a fare in modo che chi vuole pubblicare sulla piattaforma non faccia l'infringement e questo qua è un programma che dura da qualche anno che lavora sostanzialmente grazie a elementi di tecnologia e artificial intelligence molto spinti cioè questo è un programma che è stato prevalentemente disegnato per operatori piccoli e medi che volessero vendere per la prima volta dei loro prodotti sulle nostre piattaforme come funziona? funziona che se un produttore piccolo medio appunto ha creato un suo prodotto fa il photoshooting fa tutte queste cose e per la prima volta lo mette in vendita sulle nostre piattaforme automaticamente quel portafoglio di informazioni tra cui i disegni e o le fotografie e o i video a supporto vengono da noi identificati e watermarked cioè c'è una un'impronta digitale invisibile che viene legata a tutti questi contenuti a seconda che siano foto disegni o video no? questo perché viene fatto? perché voglio aiutare quel seller a entrare nel mondo digitale ma a evitare che domani quando un altro suo chiamiamolo competitor vuole vendere un prodotto imitando il suo utilizzi la sua stessa fotografia che succede quasi ogni giorno a chiunque abbia anche un prodotto contrafatto perché il sistema di artificial intelligence andrà a vedere che se domani arriva un altro che mi fa la carica di quella foto se vedo che c'è il watermarking evidentemente capisco che è una foto rubata e quindi ti prevengo e ti blocco come seller quindi c'è uno strumento di enforcement e c'è uno strumento di prevenzione questa cosa è servita come vedete a proteggere tanta gente nel numero di qui ci sono mi sembra che siano più o meno 29.000 i seller che oggi noi proteggiamo con questo sistema che aiutiamo a proteggersi con questo sistema e i numeri sono abbastanza rilevanti è un uso della tecnologia per prevenire la violazione anche questo che è molto interessante allora questo qui è un sistema che oggi è la seconda versione la seconda aggiornamento no? e queste due ragazze che voi vedete in realtà non esistono perché sono il frutto dell'artificial intelligence questo qua è un altro programma che mira a evitare che ci sia il furto di immagini dal sito di un produttore e prevalentemente va a creare quello che si chiama il modeling su capi di abbigliamento si vogliono aiutare i seller questo perché tante volte i seller moltissime quasi tutte i venditori di prodotto d'abbigliamento tipo pantaloni magliette t-shirt camicia quello che sia non riescono a fare il photoshooting il photoshooting costa molto e richiede una grandissima organizzazione in più teniamo conto della stagionalità dell'aumento del catalogo cioè il venditore dovrebbe avere dei costi crescenti esponenzialmente non ci sta dietro e quindi cosa fa va in giro prende immagini e poi le mette sul suo link sul suo listing queste immagini spesso sono di terzi quindi non hanno il venditore non ha le autorizzazioni quindi sta facendo una violazione del copyright ok? per prevenirlo ma per fare in modo che il venditore non si sveni facendo photoshooting a raffica abbiamo creato questo programma praticamente chiediamo al venditore di dare delle indicazioni molto semplici delle fotografie del capo di abbigliamento davanti dietro come vuole di darci la tipologia di modello di ambiente che vuole sia fatta in quella photoshooting virtuale e poi il sistema di intelligenza artificiale veste ma non è una semplice vestirlo in maniera un po' basica nel senso che vedo che c'è la modella la maglietta più o meno la streccio e quindi cerco di fare in modo che aderisca più o meno a quella figura no in realtà l'artificial intelligence lavora sul materiale quindi l'immagine che è by definition bidimensionale della maglietta per esempio vista frontale viene lavorata dall'artificial intelligence e modellata sul corpo in questo caso di una modella ma potrebbe essere un bambino un adulto di qualsiasi tipo e infatti come vedete ci sono le pieghe le ombre aderisce perfettamente come fosse una modella ma in realtà nessuna delle due esiste questo è un sistema ancora una volta di applicazione della tecnologia per evitare la violazione ed è stato introdotto mano a mano quindi siamo partiti dall'enforcement e arriviamo alla prevenzione ci sono altri programmi lo facciamo sui video noi siamo anche produttori di film con un'altra società del gruppo e quindi abbiamo tutta una tecnologia ovviamente molto avanzata di watermarking dei video sui testi sui libri abbiamo una tecnologia artificial intelligence che va a continuare a fare a scandaliare continuamente tra libri originali e libri che abbiamo pezzi di libro che abbiamo sulle nostre piattaforme e va a prevenire o a rimuovere il contenuto illecito terzo pilastro non ci soddisfa mandarli via dalla nostra piattaforma vogliamo qui vado velocemente perché non è esattamente il tema di oggi tuttavia ancora una volta qua i dati e le analisi di rischio che sono fatte da umani ma con un uso della tecnologia molto spinto ci permettono di fare ed è tutta la generazione di lead per le forze di polizia quindi noi passiamo le forze di polizia questo è il modello che utilizziamo in Cina dopo verremo al modello che utilizziamo fuori dalla Cina passiamo noi autonomamente delle informazioni su venditori alla polizia e la polizia le processa alle volte le aziende ci chiedono supporto e quindi si lavora insieme alla polizia a dare supporto ai casi e alle volte è la polizia che ci avvicina direttamente questi sono i numeri che abbiamo trattato lo scorso anno sempre quindi 2700 arresti in realtà hanno dietro di loro delle fabbriche chiuse centri di distribuzione bloccati e un po' poi la condivisione con la polizia di quali informazioni tutte quelle che noi abbiamo per cui noi abbiamo informazioni a disposizione molto ampie sul venditore e o connessioni che lui abbia con altri queste sono le informazioni che giriamo fuori dalla Cina possiamo fare altre cose perché se noi stiamo parlando di venditori cinesi per la legge cinese non possiamo esportare fuori dalla Cina i dati di cittadini cinesi quindi fuori dalla Cina cosa facciamo ci concentriamo su acquirenti anomali di quantità acquirenti di quantità anomale di prodotto se una piattaforma normalmente è business to consumer la quantità transata dovrebbe essere all'interno dello scambio che un venditore professionale fa con un acquirente individuale quando eccede questo allora andiamo ad analizzare fattori di rischio e condividiamo i lead con le forze di polizia infatti stiamo lavorando con la guardia di finanza qua in Italia su vari casi in Europa abbiamo altre iniziative in vari paesi moltissimo radicate quella negli Stati Uniti con l'IPR Coordination Center la Homeland Security dove da anni lavoriamo e in alcune iniziative è lì che ci sediamo insieme ad altre piattaforme per condividere le informazioni che abbiamo la dottoressa sapiente citava IWL che è un'esperienza in Inghilterra gestita dalla City of London Police PIPQ ed è IWL una delle attività con le quali collaboriamo con la PIPQ infatti noi controlliamo IWL questa lista in maniera tale di andare a verificare poi per esempio che non ci siano pubblicità di Alibaba la dottoressa citava Netflix potrebbe essere il nostro caso anche quindi pubblicità di Alibaba utilizzate su siti che quando va bene sono siti di streaming quando va male sono siti di 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 reati molto ancora più gravi e questo è una delle attività che facciamo sempre con con loro i dati per concludere sono anche alle volte auto imputati dai titolari di diritto quindi non c'è solamente l'IP protection platform ma c'è un auto input di dati di informazioni che loro mettono dentro questa è un'alleanza in che abbiamo solo noi nell'industria che permette a 220 aziende globali di condividere tra di loro informazioni poi di scambiarle con noi ma loro entrano in un portale che hanno loro dedicato e mettono dentro da soli le parole chiave che vogliono che vengano protette o le parole chiave che sanno che servono a violare i loro diritti vanno le mettono dentro e quindi ci stanno dicendo in tempo reale che cosa vogliono che noi facciamo e i nostri sistemi lo fanno poi ovviamente come diceva non c'è uno mago dietro i sistemi devono verificare che non ci siano falsi positivi e falsi negativi per cui le volte parole chiave che per quel titolare di diritto sono fortemente identificative di un infringement possono essere parole chiave estremamente generiche per il resto dei 3 miliardi di listing ecco che allora andremo ad aggiungere altri elementi che chiediamo al titolare di diritti che vediamo in base alla sua storia eccetera eccetera le piccole e medie aziende sono fondamentali perché nel nostro caso noi cerchiamo di fare in modo che loro crescano nella consapevolezza delle loro priorità che non sanno quali sono spesso e quindi cerchiamo di condividere con loro input ed esperienze perché loro identificano più o meno quali potrebbero essere le priorità per loro nell'online e lì aiutiamo a registrarsi e a proteggersi nella maniera più semplice possibile sulla nostra piattaforma ci sono due strade che loro possono percorrere la prima è uno tool iper semplificato di reporting a me e a voi i tool di reporting possono non sembrare complessi già nella loro versione full in realtà per una piccola media azienda sono ostici oggi ne ho avuta una questa mattina che sbaglia cioè non riusciva a capire perché cos'era il power of attorney che normalmente è necessario se tu stai agendo quindi questo va al di là di alibaba però voglio dire ci fa rendere conto di quale sia spesso il livello di confusione ho avuto altri casi in cui mi dicono quel listing è in violazione che titolo hai ho il copyright sul mio marchio o hai il copyright o hai il marchio però questo qua è il livello quindi noi abbiamo dei tool che ci sembrano iper semplificati ma almeno ci devono dire o il copyright o il marchio se questo pensa di avere il copyright sul marchio evidentemente si ferma quindi la prima strada è un tool iper semplificato la seconda strada quando proprio fanno fatica anche lì è prima è stata citata un'iniziativa della international anti counterfeiting coalition ce n'è un'altra che si chiama market safe e noi rendiamo gratuito per le aziende il primo anno un programma a pagamento per le aziende il primo anno è gratuito grazie al fatto che lo paghiamo noi e lì proprio le aziende piccole e medie entrano e riportano le violazioni nella maniera più inconsistente come si dice da noi possibile cioè questo che direbbe ho il copyright sul mio marchio dall'altra parte ci sarebbero analisti che gli dicono fammi capire che cos'hai hai un certificato che cos'è il certificato te lo spiego ah sì ce l'ho fammelo vedere ah sì c'è corrispondenza poi è l'associazione che farà il reporting da noi quindi sa già come utilizzare i sistemi e fatto non secondario nel nostro caso come sappiamo quando un titolare di diritto fa un reporting sulla piattaforma il venditore ha diritto all'appello perché bisogna dare dei diritti perché magari non sta facendo una violazione e sulle nostre piattaforme questo può avvenire in cinese quindi la piccola media azienda italiana che già noi lo vediamo fa un po' di fatica ogni tanto sull'inglese sul cinese sarebbe quasi completamente bloccata in questo sistema che per loro è gratuito perché lo paghiamo noi anche il dialogo cinese venditore con azienda occidentale viene gestito da analisti multilingue che sono in grado quindi di gestire il venditore cinese e di tradurre la cosa per un azienda fuori dalla Cina questo era un po' il tema che volevo affrontare oggi nello tempo che ho sbordato anche di tempo dello speech e tutte le soluzioni che abbiamo visto sono progredite in maniera molto rilevante perché in questi 20 minuti tra i 30 miliardi di scan ce ne sono stati una fetta consistente chiudo dicendo quante sono le violazioni che uno crede beh 30 miliardi di scan troveranno il mondo in realtà no e questo dimostra è venuto fuori anche nell'indagine dell'altro giorno con con FUB quella sull'automotive che anche lei citava brevemente le piattaforme come le nostre che hanno team che hanno una storia sistemi del genere anche per prevenire l'infringement arrivano a limitare molto il numero dell'infringement online che non ci deve rendere soddisfatti perché c'è una battaglia continua però dimostra che alzando la barriera è molto difficile accedere noi abbiamo strumenti robusti di verifica dei venditori e anche qui l'intelligenza artificiale va avanti perché verifica una serie di indicatori che ci possono essere e c'è un continuo una continua verifica della loro vita però alla fine le pagine in violazione sono lo 0,00015% mi sembra del totale pagine disponibili ed è un numero in costante calo al crescere dei volumi che ci dimostra che i sistemi tecnologici funzionano grazie 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 Claudio l'importanza di voi relatori è tale che chiedo se c'è una o due domande da parte del prego sì io avrei una domanda più che una domanda un approfondimento per il professor Sbordone volevo sapere se non ho capito male lei ha affermato che di fronte a questo salto tecnologico che ci ha indicato il dottor Beltrame l'attuale assetto giuridico risponde abbastanza a tutelare tra virgolette chi opera correttamente in queste piattaforme è abbastanza anche adeguato diciamo per contrastare i casi di violazione ecco per fare un salto in avanti e far diventare questa abbastanza più che abbastanza se non mi pare che lei ha citato qualche abito di possibile intervento se ce li può spiegare in maniera più più puntuale le chiedo scusi se può ripetere la domanda perché io per un momento non l'ho sentita mi scusi ah non mi sente no ma senti adesso adesso mi sente sì adesso sì no dicevo di fronte al salto tecnologico che ci ha fatto vedere ci ha illustrato il dottor Beltrame volevo sapere mi pare che lei ci ha già detto che il nostro assetto giuridico è abbastanza in grado di tutelare che opera correttamente anche abbastanza è in grado di contrastare i casi di violazione ecco per andare per fare un salto in avanti e far crescere questo livello di abbastanza su quali ambiti potremmo intervenire e poi mi domandavo quanto sono importanti i tempi di reazione di adeguamento dell'assetto giuridico alla velocità con cui intervengono questi salti tecnologici perché c'è il rischio soprattutto quando gli adeguamenti degli assetti giuridici sono a livello sovranazionale che si arrivi tardi cioè si arrivi quando diciamo il sistema è andato su un altro livello tecnologico grazie grazie a lei della domanda io in quella mia affermazione ho premesso che si trattava di una mia nostalgia da civilista cioè quella di poter trovare in qualche modo una tutela che sia quella tradizionale nel senso che si possa ottenere come si dice giustizia in un'aula di tribunale purtroppo le dinamiche della globalizzazione questo ormai lo escludono e quindi ormai tutte le forme diciamo di tutela autonoma comunque concordata che nasce anche dall'adesione a condizioni generali di contratto nell'uso della piattaforma sono quelle più efficaci e poi abbiamo degli strumenti di tutela diciamo simili tradizionali che in qualche modo si mettono in pratica che per esempio sono le online dispute resolution tutte queste forme nuove diciamo di tutela che è sempre una tutela diciamo che ha al fondamento un accordo il tentativo di trovare un accordo quindi siamo in un ambito dove le reazioni normative a questi fenomeni sono sostanzialmente lente e in molti casi anche impossibili l'autoressa prima con riferimento al lavoro della WIPO evidenziava anche come l'ONU in qualche modo si interessa di commercio internazionale attraverso l'UNCITAL quindi se notiamo lì ci sono un sacco di norme nel senso di gruppi di regole che sarebbero molto importanti sono frutto di studi decennali ma che restano leggi modello non hanno la possibilità di entrare in migliori perché nessuno Stato le adotta come convenzioni nessuno Stato le adotta come leggi interne quindi il fenomeno della globalizzazione in realtà mette in evidenza proprio questo la pluralità delle giurisdizioni e delle leggi regolatrici è tale per cui non c'è altro sistema che spostare queste tutele a un livello di tutela autonoma diciamo di come possiamo dire legati legati a patruzioni voglio dire ciò che ci ha giustato prima il dottore circa il funzionamento della piattaforma Alibaba è evidente tutte queste forme di espulsione dalla piattaforma sono legate diciamo a tutele interne che derivano da scelte di imprese a volte sono contrattualizzate cioè per accedere alla piattaforma devi aderire a queste forme di tutela quindi siamo proprio al di fuori dei meccanismi classici è chiaro che la tutela più efficace io ovviamente da civilista ne vedo alcune ma sono legate a fattispecie diciamo di diritto interno quando capitano questioni che sono domestiche come si dice le questioni globali di lotta alla contraffazione non possono che passare in via principale per un coordinamento dell'attività di polizia e di controllo alle dogane insomma il resto è tutto diciamo su forme concordate di tutela questo è il punto allora noi dobbiamo poi distinguere questo non sono stato io preciso nell'introdurre la mia relazione la contraffazione ovviamente è un'etichetta che ha dentro tanti fatti diciamo così alcuni fatti sono legati proprio alla protezione della proprietà intellettuale ma altre volte la contraffazione per esempio legata non soltanto alla violazione dei diritti di proprietà ma anche alla qualità del prodotto può generare danni alla salute di chi usa quei prodotti anche nel test come è dimostrato e allora ecco di fronte a questa tipologia di conseguenze della contraffazione lì siamo in grande difficoltà perché effettivamente diciamo i principi che dovrebbero informare questo tipo di tutela sono sostanzialmente due e in parte sono anche racchiusi in disciplina dell'unione ma sono il primo che chi subisce un danno deve da consumatore parliamo sempre di rapporti B2C poterlo far valere davanti a quello giudice il luogo in cui risiede sostanzialmente e secondariamente dovrebbe essere possibile ottenere e anche un riconoscimento ma un'equivalenza di quel provvedimento nel paese in cui quel provvedimento deve essere messo in esecuzione questo implica però la stessa di semissioni almeno bilaterali e che non sono semplici ovviamente io faccio riferimento soprattutto al rapporto con l'Unione Europea Cina insomma che è poi quello che più ma non solo quindi e tra l'altro questo implica dei costi che molte volte non sono neanche paragonabili al danno subito i problemi ci sono era semplicemente una nostalgia delle tutele classiche a cui io sono più abituato grazie grazie professore sono le cinque meno un quarto quindi andiamo verso la conclusione io non per nessuna conclusione oggi volevo solo dire che noi siamo il ministero delle imprese e del made in Italy quindi il nostro lavoro significa soprattutto supportare chi produce chi vende chi esporta in particolare proteggendo le piccole e medie imprese le tecnologie moderne ci stanno veramente aiutando nell'educazione delle imprese alla tutela della proprietà intellettuale la proprietà industriale ma c'è ancora come abbiamo visto tantissimo da fare la contraffazione è un tema ancora purtroppo attuale come diceva Claudio la battaglia continua e quindi ancora più attuale è e resta la lotta alla contraffazione vi ringrazio e buon fine settimana della anticontraffazione grazie grazie a tutti grazie buonasera arrivederci buonasera buonasera grazie arrivederci grazie 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 grazie